e sono vicepresidente di un'associazione che si chiama Millepiedi che ha sede in un piccolo paese della provincia di Lecce che si chiama Giugianello, penso lo conosciate tutti, è talmente piccolo. Io direi che possiamo fare come ieri mettendo i nostri nomi perché ci sono dei ragazzi nuovi e magari che vogliono anche dire qualcosa, parlare un po' di sé insomma come ieri, quindi farei girare i post-it, questo è il mio nome. Così ci chiamiamo per nome. Quindi oggi insieme a me c'è Alberto Caroppo che è il presidente dell'associazione Millepiedi e Maurizio Melito che è il responsabile delle politiche giovanili della cooperativa Arcobaleno. Allora, detto questo voi intanto fate girare il post-it, ci sei tu che ieri non c'eri, io ti devo passare il microfono. Io mi chiamo Alessandro e sono educatore in una cooperativa per immigrati e partecipo al laboratorio per approcciarmi alla progettazione europea, vorrei approfondire il tema. Farò un master in mediazione culturale e quindi anche quello, non va in quella direzione. Ok, poi c'è... Esperienze all'estero oppure... No, 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 si evoluciono ai viaggi. Ciao, io sono Carlo, sono ufficialmente un ingegnere, oggi mi trovo qui per invece di fotografo, ma non sono bravo a fotografare, quindi mi scuso già da adesso per quello che uscirà. E comunque, a parte tutto, collaboro con Selene e Alberto nella loro associazione, mi sto approcciando adesso anch'io alla progettazione europea e quindi prenderò parte insieme a voi alla giornata e speriamo di imparare cose nuove. Ciao, io sono Ginestra e vengo da Roma dove ho lavorato per anni anch'io con i migranti, quindi ho iniziato la progettazione diciamo europea su quegli assi là e poi da quando vivo qua ho cominciato a fare delle cose con gioventù in azione, adesso collaboro con diverse associazioni, quindi... ho bisogno di sapere come cambiano i piani e capirci qualcosa di più. Ciao, sono Fabrizio, ho già collaborato con un'azienda di vero e progettazione, ho collaborato con Cosmo Strategio che è l'azienda di fundraising del movimento sperantista italiano. Inoltre ho lavorato presso Urbact, che è il programma di scambio di buone pratiche per lo sviluppo urbano e sostenibile. Ho anche usufruito di una borsa di studio, una borsa di Leonardo tramite la WIP, la WIP per l'associazione di Monteroni, per il progetto Leonardo U for EU, ho avuto la possibilità di lavorare presso Avventura Marau Club in Portogallo. E' capito tutti l'inglese, immagino. Ho anche l'italiano, ma il mio italiano non è buono. Non parlo bene. Sono Rieta, vengo da Albania, adesso sono come volontaria IVS in Arcobaleno, sono stata un po' occupata con le attività locali e anche internazionali, ho fatto training courses e cambi culturali, più di 20, così che scrivo anche dei progetti, anche workshop o altri tipi di attività. Ma qua spero che sarà un'altra esperienza e posso imparare nuove cose. Ciao, sono Brodie, ho faccio l'EVS, ho faccio l'Italia, ho faccio l'Italia, ho faccio l'Italia, ho faccio l'Italia. Sì, ho faccio l'Italia, ho faccio l'Italia. Sono stato già presentato da Selene e ringrazio l'associazione Mille Piedi per aver organizzato sia questo seminario che anche questa occasione di incontro per i volontari che sono arrivati il 31 ottobre, il 31 ottobre è il primo novembre quindi ancora sono sotto shock culturale, ambientale e climatico e niente, qualsiasi domanda avete nel senso per aspetti tecnici e pratici di progettazione non siamo a vostra disposizione, grazie. Ok, oggi il nostro intervento l'abbiamo voluto chiamare esperienze dirette sul programma Gioventù in Azione non andremo a parlare rispetto a ieri, io parlando anche con i ragazzi che c'erano ieri forse per alcuni di voi, per alcuni dei ragazzi che c'erano ieri alcune cose si sono date un po' per scontato e quindi sicuramente andremo a vedere, parleremo del programma Gioventù in Azione senza parlare troppo degli aspetti tecnici perché come sapete quel programma ovviamente non sarà più così sarà un programma diverso, quindi andiamo più che altro a vedere quelli che sono i concetti su cui si basa il programma Gioventù in Azione, su cui si fonda il programma Gioventù in Azione parleremo delle priorità e poi ovviamente parleremo di due azioni del programma che sono l'Azione 1 Scambi Culturali e una sottoazione che è l'Azione Iniziative Giovani e ovviamente l'Azione 2, quindi il Servizio Volontario Europeo, partendo da quelle che sono state le nostre esperienze dirette e quindi il nostro approccio a queste azioni. Quindi io inizierei in generale proprio a parlare di che cos'è Gioventù in Azione di quelli che sono le obiettive e le priorità permanenti che saranno anche, come diceva anche ieri Andrea saranno le stesse della prossima programmazione, quindi si fonderà su dei concetti, più o meno sulle stesse priorità permanenti. Con Gioventù in Azione, non so se tutti voi lo sanno, ci sono delle priorità permanenti e delle priorità annuali che quindi ovviamente cambieranno. Quindi Gioventù in Azione è un programma che è istituito dall'Unione Europea, io ho preparato delle slide per facilitare un po' il discorso, ovviamente non si parlerà nel dettaglio degli aspetti tecnici anche perché non c'è una guida ancora, come sapete, ieri Andrea parlava del fatto che sarebbe uscita proprio a fine novembre, quindi sì, diceva ieri Andrea che uscirà a breve insomma. Detto questo, quindi Gioventù in Azione è un programma che viene istituito dall'Unione Europea ed è un programma per i giovani. L'obiettivo è quello di infondere nei giovani europei un senso di cittadinanza attiva, di solidarietà e di tolleranza coinvolgendo nella costruzione del futuro dell'Unione. Promuove ovviamente la mobilità entro i confini dell'Unione Europea e anche oltre i confini dell'Unione Europea con quelli che sono i paesi che aderiscono al programma e poi ogni anno ovviamente ci sono dei gruppi di paesi che vengono scelti e che quindi aderiscono al programma. Promuove l'apprendimento non formale e il dialogo interculturale favorendo l'occupazione e il coinvolgimento di tutti i giovani indipendentemente dal grado di istruzione, provenienza sociale e bagaglio culturale. Quindi il programma Gioventù in Azione è un programma per tutti. Gli obiettivi, la cittadinanza attiva dei giovani in generale, la cittadinanza europea, la solidarietà e la tolleranza ovviamente al fine di rafforzare la coesione sociale dell'Unione Europea. Favorire la confrensione reciproca tra i giovani di diversi paesi cercando di abbattere quelli che possono essere eventuali pregiudizi ovviamente che nascono dal fatto che non si conoscono le culture e i diversi paesi, promuovere la cooperazione europea nel settore della gioventù. Le priorità permanenti, la sensibilizzazione dei giovani sul proprio essere cittadini europei, incoraggiarli a riflettere sui temi di rilevanza europea, di coinvolgerli nel dibattito sulla costruzione e sul futuro dell'Unione Europea e i progetti dovrebbero essere caratterizzati da una dimensione europea. Molto spesso io mi sono trovata così ad aiutare dei giovani che volevano appunto iniziare a lavorare con il programma Gioventù in Nazione che avevano difficoltà proprio a capire che cosa vuol dire nel formulario quello che è il campo della dimensione europea. Quindi ho voluto fare un focus su quella che è la dimensione europea, offrire ai giovani partecipanti l'opportunità di identificarsi con giovani provenienti da paesi diversi sulla base di valori comuni. Questo non vuol dire che ovviamente si devono livellare le differenze dei giovani che provengono da altre culture, anzi Gioventù in Nazioni favorisce l'incontro proprio per valorizzare queste differenze culturali, ma si basa su quelli che sono valori comuni dell'Unione Europea, quindi la lotta al razzismo, alla xenofobia, l'abbattimento di eventuali pregiudizi, quindi favorisce l'incontro proprio per cercare di abbattere questi pregiudizi e di, appunto, come diceva prima, di creare coesione sociale. Incoraggiare i giovani ad assumere ruoli attivi nelle proprie comunità, sentirsi davvero europei, non solo per scoprire l'Europa e quindi per conoscere gli altri paesi europei, ma anche per contribuire alla costruzione del futuro dell'Europa, attraverso un ruolo attivo che mette al centro i giovani. La partecipazione, la partecipazione dei giovani è un'altra priorità del programma, quindi essere cittadini attivi e quindi a fare un qualcosa di concreto per la propria comunità, per cambiare insieme e quindi, come diceva prima, per costruire l'Europa facendo, incentivare la partecipazione dei giovani alla vita civile della propria comunità, quindi il sistema della democrazia partecipata, fornire maggiore sostegno a varie forme di educazione e alla partecipazione. Per quanto riguarda l'approccio partecipativo, diciamo che il programma Gioventi in Azione si fonda su quella che è l'educazione non formale, che c'era ieri, ha sentito dire da Andrea più volte, sull'educazione non formale e informale, che appunto è complementare a quella formale, a quella che si studia a scuola, all'università. I metodi di approccio appunto a questo tipo di educazione sono quello di lasciare spazio, mettere al centro i partecipanti, costruire insieme e imparare facendo, quindi lasciare spazio ai partecipanti, evitare quello che può essere l'ascolto passivo, rispettare le competenze, le conoscenze individuali e anche una cosa importante è quella che non è scontata e cercare, che dovrebbe essere quello il ruolo di un facilitatore, cercare di far capire quelle che sono le proprie competenze ai partecipanti, quindi quelle che sono le proprie aspirazioni, le attitudini personali. Perché non è scontato che uno, lo sappia, scusami se ti do le spalle, quindi rispettarle e rispettare le conoscenze e competenze individuali. Garantire a ciascuno non solo il coinvolgimento, ma anche la possibilità di influire sulle decisioni e partecipare attivamente anche a tutte le fasi di un progetto. In merito a questo, io per esperienza personale, ho imparato che dare spazio, cioè a volte anche chiedere consiglio, far partecipare ad ogni fase delle attività rispetto ad un progetto che si vuole realizzare, ti facilita veramente la vita, cioè sia per quanto riguarda un partenariato internazionale, quindi quando si fa fare un progetto per esempio di scambio, secondo me, non so se voi siete d'accordo, ma avere un partenariato efficiente, quindi prima ancora di pensare all'attività o pensare all'attività insieme ai propri partner e secondo me il 50% del lavoro è già fatto, nel senso che comunque si vengono a capire quelle che sono insieme, quelle che possono essere delle criticità, si conosce, si costruisce un rapporto con i propri partner e anche con i ragazzi che poi andranno a partecipare ad un progetto. Io una volta ho partecipato ad un progetto che aveva avuto, non organizzato da noi, che aveva avuto proprio questo approccio, quindi sin dall'inizio con i partner c'era stata questa relazione, questa costruzione proprio delle attività insieme, si avevano già i partecipanti che hanno contribuito anche alla stesura del progetto, a decidere quelle che potevano essere le attività. Secondo me è stato, diciamo, il 50% del lavoro è stato già così, è stato più facile insomma realizzare il progetto proprio perché c'era stato questo prima alle spalle. Quindi il coinvolgimento è importante, la possibilità di influire sulle decisioni, la partecipazione allo stesso tempo, un processo di apprendimento e un risultato è un approccio, è un'attitudine. Invertire il ruolo tradizionale degli esperti, anche questo mi sono trovata più volte a parlare con dei ragazzi che immaginavano gioventù in azione come facciamo dei corsi in cui c'è un esperto che insegna e gli altri che apprendono. Questo assolutamente non fa parte di gioventù in azione, nel senso che, come dice qui dalla guida, questo è stato preso dalla guida, quindi chiunque può andare a leggerselo, più che altro volevo appunto concentrarmi su questi aspetti importanti che non si spiegano, che vengono fuori dall'esperienza. non è un io insegno e gli altri imparano, è un imparare insieme, realizzando, sperimentando, facendo insieme. Quindi diciamo, c'è questa inversione del ruolo tradizionale degli esperti esterni e quindi diciamo, io insegno, cioè io apporto qualcosa e gli altri apportano qualcosa a me, quindi c'è un'interazione costante. Incoraggiare i giovani a condurre le proprie analisi, la coscienza autocritica, grazie all'aiuto dei mediatori, che è quello che poi dicevo prima, insomma, i facilitatori cercano di far capire ai partecipanti quelli che possono essere quella che è la propria competenza, le proprie attitudini, condivisione delle idee e delle informazioni, i giovani dovrebbero essere consultati, costituire parte attiva in tutti i processi decisionali che riguardano i loro progetti, quello che dicevamo. Altra priorità, ovviamente, è la diversità culturale, il rispetto, la valorizzazione delle diversità, la lotta contro il razzismo e la xenofobia, l'abbiamo già detto, Favorire attività comuni tra giovani con bagagli culturali, etni e religiosi diversi, stimolare la consapevolezza e la riflessione sulle differenze di culture e valori. Anche ieri si parlava dell'inclusione di giovani con minori opportunità, che era una priorità che rischiava di essere minata dalla nuova programmazione, ma rimarrà anche come priorità nel prossimo programmazione dal 2014. Quindi, i giovani con minori opportunità sono quelli che si trovano in condizioni di svantaggio rispetto ai propri coetani. Le condizioni di svantaggio sono molteplici, sono di tipo economico, quindi giovani disoccupati, giovani che hanno perso il lavoro, o giovani che si trovano in situazioni economiche precarie. Gli ostacoli sociali, cioè vittime di discriminazione per sesso, appartenenza etnica, religione, disabilità, orientamento sessuale, i giovani che sono ex dipendenti o dipendenti da alcol e droghe, ex delinquenti, eccetera. La disabilità, che può essere fisica, mentale, le difficoltà di apprendimento, cioè per quei giovani che hanno lasciato magari gli studi, che non hanno terminato gli studi, le differenze culturali, quindi giovani immigrati, rifugiati, discendenti, eccetera, appartenenze a minoranze nazionali e etniche, non mi dilungo, perché lo capiscono tutti cosa vuol dire, problemi di salute, gli ostacoli geografici, cioè anche coloro che provengono da zone rurali o che hanno trasporti pubblici limitati, servizi ridotti, quindi ostacoli geografici, anche quelle zone periferiche, che non sono fornite da servizi. Rispetto alle priorità annuali, ovviamente nel 2014, non essendoci una guida, non si possono ancora sapere, l'anno scorso si era molto sulla disoccupazione giovanile, la creatività e l'autoimprenditoria, e anche le elezioni parlamentari del 2014, del Consiglio d'Europa, quindi vedremo l'anno prossimo. l'apprendimento... Per quanto riguarda le produttività, non vuole parlare con me. Eh, devi, perché siamo in streaming. Ah, scusi. Per forza. No, volevo dire, puntualizzare una cosa sul concetto di giovani con poche opportunità, diciamo così, perché il problema quale è stato? Loro, diciamo, la Commissione Europea ha ragionato, in maniera ovviamente generale, perché non possono fare una casistica per paese, siccome hanno fatto, diciamo, l'Europa senza avere un'idea di qualcosa fosse l'Europa, immaginare le... avere una grande categoria, come quella delle piccole opportunità, ha incluso all'interno, effettivamente, zone magari disagiate, determinate condizioni che non erano realmente documentabili, come può essere una disabilità, come può essere una, magari, appartenenza, o aver avuto problemi di droga, o aver avuto problemi di, magari, di eventuali pene scontate in carcere. A differenza di questo tipo di casi, effettivamente, che sono documentabili, il resto, come dire, è facile dire che io che sono salentino e vengo dalla Puglia, zona di obiettivo 1, ex zona di obiettivo 1 almeno, è facile dire che io sono un ragazzo, da virgolette, povero, che vuole fare l'esperienza all'estero. In realtà, però, se ci pensate bene, questi strumenti di politica di gioventilazione, sono strumenti che hanno come unico target questo tipo di casi. Una persona, in senso che io mi metto nei panni, di una persona che ha una disponibilità economica discreta, non va a ricercarsi questo tipo di programmi, va a ricercarsi, effettivamente, una situazione in cui, potendo pagare, riceve dei servizi, diciamo, all'altezza di quanto paga. Quindi, eliminare questo tipo di punto è come eliminare nel tempo stesso la mission di questo tipo di programmi. Perché? Perché loro, effettivamente, non possono realmente documentare qual è effettivamente la reale esigenza di uno che ha classificato come poche opportunità. Io posso giustificare, come dire, come poche opportunità, il fatto che una persona provenga, non lo so, dalla Azerbaijan, dove magari non hanno ferrovie, oppure vivono con dieci pecore fuori di casa, però questo non è un dato, effettivamente, documentabile. Cioè, io mi posso tranquillamente inventare che questa ragazza vive in realtà con dieci pecore, questo ragazzo a fianco, non ha l'acqua, non ha i servizi igienici. È difficile, effettivamente, di realmente documentare il fatto che le persone siano con poche opportunità. Secondo la casistica, parlo europea. Quindi, eliminare questo punto è come eliminare, proprio cancellare la mission di questo tipo di programma. Questo programma è fatto ad hoc per persone con poche opportunità. è fatto ad hoc perché queste persone abbiano la possibilità di fare esperienze all'estero, con strumenti che non sono prettamente economici o legati al ceto di appartenenza. Cioè, quindi questa cosa, vuol dire, è una cosa importante della comunità europea, perché non tutti, effettivamente, i giovani hanno le stesse opportunità. E questo tipo di programma mira proprio a questo, a dare a tutti la stessa possibilità. Di conseguenza, come dire, eliminare, pensare di eliminare questo punto è pura follia, nel senso, è come eliminare la propria mission. È la stessa cosa. Solo questa cosa volevo dire, perché comunque poi spiegherò magari dalla mia esperienza il coinvolgimento di cosa voglia dire realmente coinvolge le persone con poche opportunità. Certo. No, tra l'altro, in effetti, chi ha magari l'opportunità anche economica di poter fare, che vuole farsi un viaggio, sicuramente non si farà mai uno scambio di giovani, anche perché, diciamo, dal punto di vista del budget è veramente molto ridotto. Quindi tu vai a fare un'esperienza in cui sai che probabilmente puoi dormire anche su un materasso per terra, oppure il cibo non sarà così abbondante. Quindi uno deve anche essere, anche compito delle associazioni che mandano dei ragazzi fuori, di rendere questi ragazzi consapevoli di che cosa vanno a fare, che non vanno a fare assolutamente un viaggio, anche perché non vanno a vedersi una città nuova, sicuramente ci sarà, come diceva anche Andrea ieri, ci sarà, vanno a Parigi, vedranno sicuramente la Torre Eiffel, ma non è quello lo scopo, quindi, diciamo, non è un viaggio di piacere e sicuramente essendo finanziato al 70%, diciamo, poi anticipo un po' quello che è il budget per chi non ha mai partecipato o insomma non conosce bene il programma, viene finanziato con questo programma il 70% dei costi di viaggio, quindi comunque c'è un cofinanziamento da parte del partecipante del 30% rispetto al costo di viaggio ma viene finanziato invece al 100% il gritto di alloggio. Detto questo il budget del programma è molto ridotto, quindi, diciamo, è chiaro che se uno vuole andarsi a fare un viaggio e ha le possibilità economiche sicuramente non sceglie questo tipo di programma. L'apprendimento non formale va bene, l'abbiamo anticipato prima, ha luogo al di fuori del curriculum previsto dall'istruzione formale, le attività di apprendimento non formale si svolgono su base volontaria e sono accuratamente progettate per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale dei partecipanti. Io per spiegare che cos'è l'educazione non formale utilizzo sempre un esempio che è quello del, per esempio, a scuola se mi dicono impara tre capitoli di storia magari ci metto che ne so, ci metto tre giorni perché a me non piace la storia faccio fatica se invece magari attraverso un'attività che può essere per esempio quella del teatro io metto in scena magari quelli che sono i personaggi che si sono susseguiti in quel periodo storico probabilmente mi ricorderò molto meglio di che cosa è successo in quel periodo di chi erano i personaggi delle date eccetera quindi un approccio non formale non è quello cui io apro un libro studio a memoria quello che dice il libro ma attraverso delle attività diverse sicuramente pratiche molto più pratiche riesco ad imparare molto prima e molto più facilmente l'apprendimento informale ecco è invece quello che riguarda la vita di tutti i giorni quindi in un progetto immaginare sicuramente delle attività che fanno capo a quello dell'educazione non formale ma anche immaginare dei momenti in cui i partecipanti i ragazzi possano interagire in situazioni informali quindi che riguardano appunto quello che è il tempo libero la vita quotidiana e quindi cercare di creare queste condizioni le attività di apprendimento non formale sono complementari all'istruzione scolastica l'abbiamo già detto adottano un metodo partecipativo e incentrato sullo studente o sul partecipante si svolgono su base volontaria va bene e sono direttamente correlate alle esigenze all'espirazione agli interessi dei giovani gli uffas e poi finisco è un certificato che descrive e convalida l'esperienza di apprendimento non formale e informale acquisita durante un'esperienza di scambio culturale o servizio volontario europeo la commissione europea certifica che la partecipazione al programma giovento in azione è riconosciuta come un'esperienza formativa a tutti gli effetti e costituisce un periodo di apprendimento non formale e informale ovviamente un documento che anche in questo caso si cerca insieme tra mediatore facilitatore e partecipante si cerca di scrivere insieme di creare insieme proprio perché ritorna sempre lo stesso discorso è aiutare a capire quelle che sono le competenze acquisite e quindi diciamo aiutare il ragazzo il partecipante dall'inizio alla fine quindi a riconoscere le proprie competenze i dettagli va bene per il rilascio sono qui c'è il sito potete andare a vederlo e anche il sito dell'agenzia dell'agenzia giovani ok bene quindi questo incontro vuole essere rispetto a coloro che non hanno mai partecipato un po' modo è stato così molto velocemente per chiarire quelle che sono le priorità per chi invece ha già partecipato quindi si sarà risultato noiosissimo perché le conosce bene queste cose sicuramente sicuramente può essere un momento di confronto anche quindi di scambio cioè noi diciamo quella che è stata la nostra esperienza in campo oggi per le azioni 1.1 la sottoazione 1.2 e l'azione 2 del servizio volontario europeo ma chi le ha già fatto perché no può intervenire e dire quali sono state le criticità essere d'accordo o meno su quello che diciamo insomma perché poi l'esperienza di ciascuno è diversa però sicuramente ci sono molti di voi che non hanno mai organizzato perlomeno uno scambio o non hanno mai fatto insomma organizzato un progetto di servizio volontario europeo io passerei dalla parola ad Alberto Allora ciao a tutti innanzitutto ora vorremmo un po' condividere le nostre esperienze per quanto riguarda io parlerò delle nostre esperienze per quanto riguarda gli scambi europei che cercherò di riassumere nell'ultimo anno diciamo di progettazione partendo dall'estate del 2012 o forse qualche cosa anche prima arrivando fino ai giorni nostri parlando un po' di quelli che sono stati partecipanti il numero e le nazionalità coinvolte i temi trattati le criticità appunto avute e non so l'impatto locale o comunque varie altre situazioni cos'altro vi pregherei visto che so che per esempio tu hai avuto altre esperienze con scambi giovanili e non lo so chi altro tu ecco benissimo quindi vi pregherei di interloquire con me non diciamo non 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 rimanete passivi perché è uno scambio appunto come diceva Selene e siamo qui per imparare cioè sia noi che voi alla stessa maniera magari voi avete avuto delle problematiche che noi neanche pensiamo che possano succedere allora giusto così perché avevo una scaletta di di numeri altrimenti non altrimenti non me li ricordo per chi invece non ha la minima idea di che cosa sia uno scambio giovanile o di qual è il ruolo di un'organizzazione in questo tipo di azione bisogna sapere che ci sono due ruoli che può avere un'associazione che è quello di associazione ospitante e quello di associazione mandante di invio quindi nelle due varie situazioni hanno delle responsabilità diverse ovviamente nel caso in cui il progetto sia ospitato dall'organizzazione per esempio italiana in quel caso l'organizzazione italiana sempre rimanendo in contatto con i partenariati con i partner europei organizza e prepara lo scambio dall'inizio alla fine curandosi di tutto e anche del coordinamento quando invece si tratta dell'organizzazione di invio rimane nel proprio paese rimane a contatto con l'organizzazione mandante ricerca i partecipanti li prepara allo scambio e diciamo fa le veci del 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 gruppo nazionale diciamo come associazione millepiedi nell'ultimo anno abbiamo affrontato quattro scambi interculturali sia come c'è un'altra premessa da fare gli scambi culturali possono essere organizzati e progettati e quindi applicati secondo diverse forme giuridiche ossia possono essere essendo un programma per tutti la commissione europea dà l'opportunità anche a gruppi informali di giovani quindi per esempio io e Selene non siamo facenti parte di nessuna organizzazione abbiamo un bisogno una necessità abbiamo un'idea vogliamo portarla a termine abbiamo dei ragazzi che già conosciamo che magari abbiamo conosciuto durante uno scambio il mese scorso abbiamo fatto da partecipanti siamo stati partecipanti siamo rimasti in contatto e vogliamo organizzare qualcosa insieme insieme la parola fondamentale perché se c'è questa parola il successo è quasi è assicurato e soprattutto l'agenzia nazionale quando ti legge il tuo progetto lo capisce che è stato fatto qualcosa insieme ciò vuol dire che c'è l'apporto totale di tutti i partecipanti è già la cosa come dire la cosa più auspicabile sarebbe già che tu mentre vai a scrivere il progetto hai già il gruppo di partecipanti estero già formato già voglioso di arrivare quindi per non perdere il filo del discorso dicevamo che abbiamo affrontato diversi scambi il primo dei quali è stato progettato secondo la forma del gruppo informale il gruppo informale non avendo ancora diciamo le carte in regola come associazione o diciamo come altro ente perché possono essere anche enti locali quindi comuni o regioni scusa o province ma possono essere anche enti organizzazioni a livello europeo faccio un esempio su tutti l'eurodesco che è conosciuto dunque il primo è stato organizzato come gruppo informale e poi successivamente gli altri come associazione millepiedi nel caso un gruppo informale di giovani ad accedere a questo progetto ci sarà un rappresentante di tutto il gruppo che si assumerà poi la responsabilità legale per tutti cos'altro vabbè diciamo circa 56 giovani provenienti da varie nazionalità uno scambio è stato è stato come tema era le tradizioni orali quindi sono state scelte delle nazionalità che avessero una forte tradizione orale e qualche similiarità anche con la nostra e le nazioni nel caso specifico sono state Romania Ungheria e Irlanda e la nostra ovviamente l'Italia un altro scambio sullo sport è stato fatto in risposta a uno scambio sullo sport fatto in Spagna quindi era forte di un partenariato già consolidato di un gruppo già consolidato e di una collaborazione già avvenuta in precedenza un altro scambio è stato è stato organizzato su gli intrecci storici culturali e artistici che abbiamo avuto e che abbiamo tuttora nel Salento grazie a invasioni e diciamo e varie presenze avute nel Salento quindi era uno scambio organizzato fra Turchia Italia Spagna e Grecia Grecia per continuare con con questi scambi in entrata quindi avuti avuti nel nostro paesino a Giugianello perché noi li organizziamo a Giugianello uno potrebbe dire semplicemente ma che ci viene a fare un ragazzo di Bucarest o di un'altra città come Kiev che fa 10 milioni di abitanti per dire un numero a caso che ci va a fare a Giugianello e quello è il bello perché una persona secondo me non deve scegliere la meta deve scegliere il progetto in sé e la meta è qualcosa di inaspettato ed è qualcosa che tu quando ritorni a casa godrai di aver scelto quel progetto perché non saresti mai venuto in un paesino come Giugianello non avresti mai conosciuto il barista non avresti mai conosciuto la signora dell'alimentari o non saresti mai entrato a casa di qualche ed uno ecco perché l'impatto locale tu lo vedi molto di più in un paesino oppure in una realtà molto piccola infatti l'esempio io e Chiara siamo andati in un paesino di 10.000 abitanti in Turchia l'altro mese e la differenza era enorme perché c'era un paesino di 10.000 abitanti e poi una città di un milione e mezzo accanto una accanto all'altra noi facevamo su e giù perché dormivamo da una parte perché il paesino non aveva un hotel a disposizione quindi noi eravamo anonimi in una città di un milione di abitanti come facevamo 10 chilometri diventavamo l'attrazione del paese i poliziotti si fermavano volevano fare la foto con noi i signori dei negozi ci offrivano qualcosa da mangiare non lo facevano semplicemente per cercare di venderti qualcosa ma proprio per instaurare un discorso con te e magari anche abbattere la noia quotidiana potrebbe essere qualcosa cos'altro possiamo parlare dei risultati ottenuti continuando con un po' di numeri abbiamo avuto esperienze all'estero come sending organization nelle quali noi ci preoccupiamo di ricercare un gruppo innanzitutto motivato per questo nelle chiamate che facciamo pubbliche le facciamo tramite social network a volte dipende dai tempi che abbiamo perché a volte viene approvato a metà ottobre a fine ottobre c'è il progetto inizia già le attività quindi dipende da queste tempistiche applichiamo a volte spendiamo anche dei soldi per poter fare una chiamata nazionale appoggiandoci su alcuni siti in queste chiamate che noi facciamo per trovare dei partecipanti chiediamo sempre una lettera motivazionale non che sia questa fondamentale però è una scusa diciamo per già chiedere qualcosa a un partecipante perché se uno provate a immaginare un partecipante che si mettesse là a scrivere due righe oppure che le copiasse da un amico che vuole venire vuole partire insieme a lui viene scartato a priori perché vuol dire che c'è questo fondamentalmente di fare delle attività o di capire che cos'è questo progetto di avere delle esperienze delle conoscenze nuove con degli altri cioè non è minimamente motivato ecco perché questa lettera è chiesta diciamo questa è la nostra poi la nostra tecnica diciamo quello che noi riteniamo giusto niente quindi ci preoccupiamo di creare un gruppo motivato di prepararlo di fargli conoscere che cos'è uno scambio di assicurarli perché i ragazzi diciamo vadano sicuri all'estero e di preoccuparci poi di ovviamente di portare a termine il progetto con il nostro partenariato partendo dalla preparazione delle attività alla modifica eventuale delle attività a volte c'è anche una visita preliminare che prevede che il gruppo leader o comunque un rappresentante delle associazioni vada nel posto in cui lo scambio si effettuerà visiterà gli spazi delle attività l'hotel il ristorante e ovviamente concludi concluda un po' quello che è il piano settimanale delle attività cos'altro dopo la partecipazione allo scambio avviene diciamo un po' le cose un po' più burocratiche ossia mandare boarding pass e preoccuparsi della diffusione del progetto quindi qualora ci sia da inviare a televisioni giornali testate documenti è compito nostro farlo in Italia per continuare i temi trattati sono quelli diciamo classici o priorità annuali degli scambi tranne qualche cosa che come vedete per esempio le priorità quest'anno erano soprattutto sulla creatività e l'imprenditorialità sullo sport e sull'ambiente e questi sono i temi maggiormente trattati però c'è da dire che non per forza uno scambio se voi volete scrivere uno scambio e avete un'idea in mente seguite quella perché quando l'idea è fondata voi lo scrivete sicuramente con più cognizione di causa sapete già cosa volete raggiungere e c'è un vero motivo per cui lo si sta scrivendo partire dal bisogno di scrivere un progetto di solito è sempre più difficile mentre vi faccio l'esempio degli intrecci interculturali quello era un progetto a sé non c'entrava niente con magari si toccava un po' i temi quali l'imprenditorialità oppure la creatività oppure l'arte oppure le differenze culturali che c'è in ogni scambio ovviamente però era un tema a parte ed era un tema voluto che noi già perseguitavamo da e perseguitavamo va bene seguivamo già da tre anni a questa parte con un altro tipo di attività niente per non essere troppo logorroico chiudo qui e facciamo facciamo un altro diciamo diamo la parola a Maurizio certo certo se volete raccontarci anzi le vostre esperienze io voglio darti il microfono già lo so sostanzialmente io ho partecipato in passato a scambi culturali ho anche come partecipante ed anche come ho anche scritto di sana pianta alcuni scambi dal mio punto di vista credo che la figura del training sia molto importante perché credo che il trainer il trainer debba debba trasmettere ai partecipanti la voglia diciamo di partecipare al progetto e anche motivarli della sì deve essere anche una persona magari che capisca capisca diciamo la psicologia diciamo di determinate figure svantaggiate che non sempre dalla mia esperienza ho intuito che non sempre i soggetti svantaggiati sono selezionati per questi progetti magari in Italia sì però in alcuni paesi magari come il Marocco o altri paesi africani o anche dal mio punto di vista anche la Turchia spesso e volentieri non si attua una selezione a monte dei partecipanti queste sono le due problematiche diciamo più importanti che credo che siano indispensabili per la per un risultato ottimale del progetto proprio perché a ottobre durante il nostro vecchio scambio abbiamo avuto un'esperienza di io li chiamo facilitatori o motivatori o group leader non tanto trainer perché non mi sembra proprio appropriato però abbiamo avuto nello scambio avevamo quattro nazionalità che avevano non dico quattro tipi però due tipi di leader diversi ed eravamo erano cinque nazionalità scusami eravamo tre facenti parte di organizzazioni di giovani ed eravamo giovani anche noi nel senso che dalla Lituania c'era una ragazza è molto importante dalla Lituania c'era una ragazza di 26 anni poi c'ero io e poi c'era un altro della Turchia che comunque era come se fosse uno di noi aveva una quarantina d'anni però faceva caso a parte dall'altra parte c'erano due professoresse perché erano due enti due scuole a prendere parte al progetto io non voglio dire che sicuramente apportavano la loro professionalità una di queste era psicologa sapeva il fatto suo da questo punto di vista però invece da un punto di vista motivazionale erano più carenti giusto per dire l'ultima esperienza vissuta io mi volevo riallacciare a questo ragionamento al fatto anche a quello che hai detto tu prima su quali sono tutti i compiti di chi invia per dire che trovo abbastanza assurdo che su uno scambio approvato chi invia non prende assolutamente niente quando anche quello è un lavoro nulla cioè in un progetto in cui tu invii tu non hai neanche un minimo di rimborso spese sono partita ora come group leader c'è un lavoro di preparazione che comunque va riconosciuto fino ad oggi noi non abbiamo mai preso niente nulla chiediamo soltanto una quota di partecipazione ai partecipanti per coprire spese assicurative e diciamo spese anche organizzative perché come sai benissimo io parto a marzo con il partenariato poi lo risento a luglio quando viene approvato e poi dopo biglietti cose mail le chiamate e ancora mi sta stressando diciamo che adesso stiamo pensando di fare una cosa diversa nel senso anche il group leader per esempio i costi di viaggio del group leader sono a carico del group leader stesso quindi soprattutto quando si va in Turchia per chi è stato sa benissimo che costa 350 se lo fai un mese prima altrimenti 550 come mi è costato l'ultimo al netto delle spese 160 euro che non mi posso permettere se devo fare 5 viaggi all'anno 6 viaggi all'anno e via dicendo quindi l'idea nostra adesso è quella di di allargare il raggio di azione quindi di coinvolgere persone che abbiano voglia di farsi queste esperienze che siano bene o male pronte ad essere dei leader non per forza devono essere le persone speciali o comunque adatte a questo però che magari si formino anche loro facendo diverse esperienze qualora lo vogliono e adottare una politica diversa chiedere innanzitutto la percentuale del progetto perché non so se siete a conoscenza ma l'organizzazione ospitante può chiedere dal 5 al 15% dell'ammontare del progetto cosa che non viene quasi mai fatta affinché il progetto riesca meglio o abbia delle attività o abbia delle attività o magari si organizzi giusto una scampagnata perché di solito e poi l'ospita cosa no l'organizzazione mandante quella di invio ha diritto dal 5 al 15% dell'ammontare dell'intero progetto per affrontare le proprie spese quindi la politica che noi da adesso vogliamo attuare poi ditemi se secondo voi può essere giusta o meno è quella di chiedere un minimo per coprire le spese di viaggio del gruppo leader e così poter affrontare anche poter avere diciamo anche più persone che vadano non solo chi è diciamo motivato oppure obbligato ad andare vi faccio un esempio io sono andato questa volta non ho mandato un partecipante avrei potuto mandare un partecipante sono andato perché erano tutti i partenariati nuovi e quindi volevo che lo scambio riuscisse appieno che la nostra organizzazione facesse una bella figura e via dicendo quindi è possibile chiedere dal 5 al 15% bisogna anche avere la faccia da tosto di farlo perché altrimenti loro non te lo dicono riguarda la NGO che manda dei persone non è che sempre dovrà pensare a guadagnare una cosa perché io ho visto questo problema che i partecipanti da Italia non sono mai in progetti non è che si fa una selezione ma non vengono per niente non è perché non vogliono pagare ma le NGO che sono parte part of sending credano che non hanno un benefit per questo motivo ma io penso che se tu sei un NGO e mandi dei partecipanti vuol dire che tu motivi i partecipanti che hai parte di un NGO e dopo tu hai anche i contatti perché se è un progetto tu prendi più contatti così che in altri progetti tu avrai anche i partner non è che dobbiamo pensare solo per i soldi la parte economica sicuramente ci sono dei diciamo del tempo che si spende per 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 seguire almeno per come per come noi allora tu hai avuto esperienze giusto la maggior parte degli italiani come viene in uno scambio non viene proprio e se viene è impreparata te lo dico io abbiamo avuto anche italiani ma erano professionali così che stavano più al topic tema sulla tema sull'argomento ma gli altri non vengono nei progetti noi abbiamo questo problema che se abbiamo i partner da Italia vengono le persone da Croatia e partecipano come italiani così che è un po' non è strano ci siamo abituati adesso con italiani ma è strano perché in ogni caso voi parlate per le cose formali io credo che i volontari pensano che è più una cosa formale è solo per imparare una cosa ma anche se vengono e non sono selezionati non sono related si loro imparano anche un'altra cosa se conoscono le persone da altre culture così che è un beneficio anche per i volontari cristian il mio punto di vista allora per quanto so io dal punto di vista dello staff non sono previste spese cioè le spese amministrative di comunicazione almeno per l'esperienza che ho avuto io è vero che l'ho fatto in Romania con l'agenzia nazionale rumena però so che le regole sono più o meno uguali insomma per tutti gli stati e anzi sono uguali e infatti un po' è stata tra virgolette è stata una delusione perché allora bisogna fare due distinzioni secondo me perché per quanto riguarda il mio è nato veramente dal cuore e l'ho fatto cioè non mi sta a fregare niente dei soldi veramente perché era un'esperienza ci ho messo il curriculum è stata veramente una bella cosa infatti abbiamo sempre pensato all'ultima parte poi la parte amministrativa dello staff l'abbiamo scoperto veramente alla fine quando in realtà non c'erano delle parti che potevano cioè che l'organizzazione ospitante poteva avere anche per il rimborso delle chiamate che facevano per dire cioè c'erano delle minimissime cose dei dettagli molto particolari per esempio doveva aprirti una sim posta per il progetto e il coso doveva essere mandato insomma delle cose ben particolari però per lo staff non era previsto insomma e questo in realtà non è una cosa molto carina perché comunque ci abbiamo messo veramente dei mesi a preparare quello che abbiamo preparato perché erano abbiamo fatto dieci giorni ma intensi con non so erano tipo sette workshop diversi noi l'abbiamo fatto presente sull'artigianato le arti artigianato come forma di comunicazione interculturale comprensione interculturale e occupabilità questo era diciamo il tema abbiamo fatto workshop sulla danza sulle arti tradizionali transilvaniche cioè veramente coinvolgendo mezzo paese mezza città forse anche per questo è stato accettato secondo me comunque una parte per lo staff ci doveva andare nonostante sia a base volontaria e quant'altro questo è il mio punto di vista un'altra particolarità che è sulla dimensione invece interculturale del 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 progetto è proprio sapersi approcciare perché io ho fatto anche il coordinatore del gruppo erano 30 partecipanti non è stato facile noi abbiamo avuto l'Ungheria Romania Lituania Turchia e Italia gestire dal punto di vista proprio come dire interculturale le personalità i modi di fare i modi di essere noi avevamo anche sei partecipanti rom oltretutto lituani e rumeni è stata una bella una bella esperienza però è quella che mi è rimasto di più ed è veramente una cosa spettacolare insomma era solo un mio punto di vista no io io a proposito di questo volevo volevo dire che sicuramente non è facile tenere un gruppo soprattutto per i nuovi insomma voi ci capirete non è assolutamente facile mantenere un gruppo di ragazzi che provengono veramente da culture sembra bello però è veramente una faticaccia anche se è per una settimana tenere insieme motivare le persone affrontare le criticità a me io ho avuto difficoltà con un gruppo che veniva dalla Turchia e loro si erano molto indispettiti quando praticamente ho scoperto che in Turchia non avere il pane in tavola prima di mangiare è una cosa gravissima il pane a tavola ci deve cioè tipo noi avevamo così stavamo riscaldando il pane insieme ad altri ragazzi anche loro insomma ci aiutavano però noi lo stavamo riscaldando e poi l'avremmo messo sul tavolo per loro era una mancanza di rispetto quindi anche queste piccole cose molto spesso ovviamente noi non potevamo saperlo che per loro era una mancanza di rispetto però anche in questo ecco la preparazione del gruppo probabilmente il gruppo non era preparato comunque a dire o l'associazione di invio non aveva preparato il gruppo semplicemente dicendo se non le dici non le sanno ma scusami scusami secondo me è stato meglio così cioè nel senso è stata una lezione è stata una lezione per te ma anche per loro per loro sicuramente magari loro non lo so l'hanno colta non l'hanno colta si sono indispettiti però se non si sono indispettiti vuol dire che comunque hanno capito guarda in Italia il pane te lo portano se c'è l'insalata o te lo portano con l'antipasto non te lo portano prima della pasta esatto diciamo queste differenze culturali che possono essere veramente sciocchezze in realtà diventano grandi problemi nel momento in cui si va come dire viene interpretata come addirittura una mancanza di rispetto nei confronti di di un'altra cultura no? semplicemente non si può sapere tutto e quindi diciamo la preparazione di un gruppo quando si parte come diceva Alberto preparare quando non si conosce il partner andiamo sempre uno va sempre uno di noi per assicurarsi diciamo per mediare anche no? perché magari noi avendo più esperienza nel momento in cui un gruppo di italiani che non è mai partito che noi portiamo si trova a dover affrontare delle difficoltà c'è sempre un facilitatore che invece ha già fatto quelle esperienze che può essere d'aiuto detto questo è una cosa difficile è una cosa bellissima ma è anche una cosa difficile insomma porta via tante energie ecco perché io vorrei dire Orietta che secondo noi mano a mano che passa il tempo capiamo che la preparazione la fase preliminare di uno scambio è sempre più importante ciò vuol dire fare delle riunioni prima qualora non possono essere possibili quando non è possibile fare delle riunioni delle chiamate Skype di un'ora per raccontare che cos'è Mille Piedi innanzitutto perché tu stai magari capita che il partecipante o la partecipante è di Milano perché io qua non l'ho trovato oppure è di Milano quindi non conosce Mille Piedi non sempre sono soci Mille Piedi a partire quindi io gli racconto che cos'è Mille Piedi che cos'è uno scambio che cosa andrà a fare quali saranno i materiali che si dovrà portare quali io li fornirò perché magari li fornirò non lo so qualcosa per il tavolo internazionale il powerpoint brochure e cose varie quindi diciamo che le spese ci sono qualche spesa sì spese non solo materiali insomma non solo materiali parlo anche di tempo impiegato io parlo per diciamo la nostra politica nel senso che a noi piace mandare delle persone oltre che motivate preparate allo scambio io ho visto delle associazioni soprattutto italiane mandare le persone allo sbaraglio nel senso non sapere minimamente di che cosa sia uno scambio che cosa siano non è proprio così c'è un io la vedo così nel senso loro imparano lì ma non che cos'è uno scambio nel senso devono arrivare lì preparati proprio affinché lo scambio avvenga con successo in ogni progetto si fa che uno session si fa una presentazione di youth in action program obiettivi e tutto così che anche se loro vanno senza prepararsi avranno un'informazione in questo scambio culturale cos'è youth in action come si organizza un progetto e al fine avranno forse un compito di fare anche un progetto così che si impara dico dalle mie esperienze non so anche se non hanno delle brochure una pagina su internet su facebook o un'altra cosa delle foto che non è che costa tanto di dimostrare delle foto su laptop o non so le altre cose che possono presentare l'organizzazione senza avere tanti spesi un flag e anche se anche se fanno la pasta che è una cosa da Italia o preparano un'altra cosa vuol dire che stanno presenti la Italia no? si costa tanto non mi concentrerei no io ce l'ho non mi concentrerei troppo sul budget volevo dire questa cosa che è un altro scambio un'esperienza che ho avuto a proposito della preparazione poi possiamo andare avanti a me è capitato di avere dei ragazzi un gruppo di ragazzi che veniva dalla Svezia dall'Olanda e dal Belgio 40 ragazzi in totale proprio quest'estate il tema dello scambio era sull'improvvisazione teatrale perché l'improvvisazione teatrale già perfettamente in linea con quella che è l'educazione non formale non c'è un copione da rispettare ognuno esprime se stesso attraverso delle tecniche di improvvisazione eccetera questi ragazzi provenivano da scuole di improvvisazione teatrale nei loro paesi quindi motivatissimi ma erano arrivati qui in Italia pensando assolutamente con l'aspettativa di fare un corso di improvvisazione teatrale ecco è lì che assolutamente con dei ragazzi splendidi un gruppo di ragazzi veramente motivato con la voglia di lavorare noi facevamo attività otto ore al giorno e loro volevano ancora fare attività cioè io vabbè spiancata non ce la facevo più come basta ma andate al mare poi tra l'altro era uno scambio a Torre dell'Orso ad agosto andate al mare un po' comunque questo per dire che l'aspettativa era molto alta ed era un'aspettativa sbagliata rispetto a quello che è uno scambio di giovani soprattutto ad agosto ad agosto figurati con 50 gradi comunque diciamo che il risultato è stato comunque molto positivo proprio per quella che era l'attitudine personale dei ragazzi quello che era la loro predisposizione all'ascolto delle persone splendide quindi il gruppo molto bello però erano venuti pensando di fare un corso quindi lì la preparazione non c'era stata immaginate la difficoltà anche dei facilitatori ad assecondare come dire non assecondare le aspettative perché erano sbagliate quelle che avevano ma comunque a mediare anche questa è stata una criticità importante tra quelle che erano le aspettative del gruppo che veniva pensando di fare un corso e quelle che invece erano attività di tutt'altro genere dove c'era sicuramente ecco la questione degli esperti c'erano sicuramente degli esperti che ci aiutavano anche perché io non faccio improvvisazione teatrale quindi era più che altro è stato scelto il tema perché le metodologie di lavoro dell'improvvisazione erano perfettamente in linea con quello che è il programma quindi era un po' tra improvvisazione teatrale ma più che altro attraverso ecco l'improvvisazione teatrale di cui loro conoscevano le tecniche eccetera perché venivano da scuole esprimere se stessi cioè mettere in scena quella che era la propria personalità e lavorare insieme detto questo la preparazione era stata nulla quindi immaginate la difficoltà quando io parlavo facevo il workshop di Gioventi in Azione le persone a sbadigliare ad andare via non se ne fregavano niente non avevano neanche capito che era grazie ad un programma europeo Gioventi in Azione che erano lì quindi fare prima di tutto farli capire che se siete qui è perché c'è stata un'associazione che ha scritto un progetto che ha lavorato per creare tutto questo che è stato finanziato da Gioventi in Azione eccetera eccetera quindi ecco secondo me io sono assolutamente d'accordo con quello che dice Alberto la preparazione è fondamentale poi vabbè Cristian volevi dire Alberto Cristian vabbè più o meno avete già detto tutto io avevo alzato per questo prima la mano io condivido assolutamente il loro pensiero a me è stato un po' diverso l'aspettativa per alcuni era superiore per alcuni era più bassa e questo può veramente sbilanciare proprio il mood lo stato d'animo del gruppo perché uno attacca l'altro e questa è una cosa che bisogna tenere molto conto specie se sono tanti partecipanti vabbè anche se sono pochi quando c'è un gruppo di una nazionalità che inizia a stancarsi inizia a sbatelliare inizia a fare quello che vuole fare o è arrabbiata o così veramente disequilibri a tutto lo stato d'animo del gruppo e lo scambio non raggiunge gli obiettivi che deve da gestire esattamente sia l'equilibrio del gruppo sia lo stato d'animo perché poi avere persone scontrose davanti perché non perché vogliono andare a farsi due giorni di niente praticamente andare a passeggiare per la strada perché pensavano di fare attività turistica e basta questo è stato anche non è stato molto facile adesso lo sto esagerando il caso mio si è risolto in giro di una chiacchierata di dieci minuti però io posso capire se fossero state altre persone poteva veramente degenerare anche in modo diverso no anche io più o meno avete detto tutto però nel mio caso invece in quest'ultima partenza io mi sono trovata in un'altra situazione ancora cioè totalmente impreparati i partner ospitanti non sull'organizzazione per essere turchi se la cavavano ma sull'attività quindi come group leader mi sono trovata quasi a fare le veci del trainer a dover spronare le persone che erano alla prima esperienza e che erano nel pallone perché le attività erano strutturate il trainer diceva fate questa avete un'ora fine quindi la preparazione è stata fondamentale e io avrei voluto farne di più e quello è un lavoro cioè è tempo qua non si tratta di andarci a guadagnare si tratta di non andarci a perdere di poter dedicare tempo e cura e formarsi anche perché penso tu lo sai meglio di me per un'associazione che vuole fare questo cioè il tuo tempo e il tuo lavoro deve essere riconosciuto economicamente non è fatto di guadagnarci cioè il volontariato è questo non andare a perdere esatto invece così ci vai a perdere appunto perché sono ore di tempo di preparazione di incontri prima di comunicazioni più senza esagerare il volo sì non è che ci devi fare chissà cosa sopra però almeno coprirtici la spesa sono le 12 sì un'ultima cosa Chiara cosa vuoi dire del tuo ultimo scambio allora io ho apprezzato particolarmente le attività i workshop fatti lì in particolar modo uno che era molto carino ci metteva nelle condizioni di entrare in contatto con la comunità nella quale ci trovavamo che appunto come diceva Alberto era una comunità piccolissima una realtà di paese simile forse a quella dalla quale proveniamo per cui era simpaticissimo il fatto per esempio che dovessimo andare in giro a trovare a comunicare per esempio a parlare con i vecchetti turchi che ovviamente non sapevano una parola di inglese dovevamo comunque trovare un modo per comunicare con loro oppure non lo so magari andare in degli esercizi commerciali dove comunque loro hanno dimostrato di essere veramente molto ospitali e come anticipava Alberto addirittura ci hanno offerto per esempio da mangiare o preparato da mangiare gratuitamente e poi volevo aggiungere un'altra considerazione a parte questo riguardo la differenza che lui aveva anticipato prima nei group leader e volevo dire che appunto anch'io da partecipante avevo percepito questa netta differenza tra i group leader che venivano dalle associazioni e i group leader invece che venivano dalle scuole perché e in un certo senso ci sono stati anche secondo me dei contrasti tra di loro non so se tutti i partecipanti li hanno percepiti magari anche i ragazzini non ci avranno fatto caso per esempio però io notavo un certo approccio un po' più formale da parte dei professori praticamente soprattutto la professoressa bulgara se non mi sbaglio tant'è che in una delle ultime attività io ho percepito quasi una discordanza di opinioni sull'approccio da utilizzare in dei workshop con cioè rispetto a quella proposta dal trainer proprio turco e quindi sinceramente io ero arrivata insomma negli ultimi due giorni praticamente a non dico a prendere in antipatia questa professoressa però comunque notavo che rendeva magari il tutto un po' più pesante ecco quindi vabbè è quello che penso sì l'approccio è sicuramente molto diverso un approccio formale il programma si basa sulle due non era magari molto in linea con quelli che erano ma sì con il programma va bene possiamo fare una pausa quanto dieci minuti di pausa poi riprendiamo con il servizio volontario europeo parleranno anche i volontari se vogliono se vogliono se vogliono se vogliono se vogliono in questa giornata noi abbiamo voluto come dicevo contribuire a questi i laboratori dal basso, che sicuramente nessuno di noi, io non mi sento una docente né esperta, i prossimi incontri saranno con degli esperti, dei docenti, quindi diciamo quelli che sono anche gli addetti ai lavori, così come è stato ieri con Andrea Pignataro, che potranno informarci su quella che è la nuova programmazione, nello specifico dei programmi quadro Erasmus Plus, Europa Creativa, quindi informeranno anche noi, questo è più un momento di confronto perché qualcuno, forse chi non c'è stato ieri, aveva immaginato una cosa più specifica sulla programmazione 2014-2020 che ci sarà, ma ovviamente detta dagli esperti e dagli addetti ai lavori. Maurizio se vuoi continuare, io ho qui il tuo materiale, te lo... Sì, magari andiamo dopo sul materiale, volevo fare delle puntualizzazioni. Innanzitutto siccome ci siamo lasciati sulla questione di budget, insomma gestione risorse economiche di questo tipo di programma, una prima cosa che è da dire è che questo programma non ammette concorrenza. Che cosa voglio dire? Voglio dire che essendo Giovento in Azione orientato e destinato a organizzazioni, associazioni, enti locali, no profit e con una mission ovviamente no profit, di conseguenza non può, questo non è uno strumento creato per aumentare e o migliorare la propria concorrenza sul mercato. Questo spiega perché gli strumenti di Giovento in Azione non sono strumenti di mantenimento di risorse umane, non sono strumenti assolutamente di dire facciamo soldi con questi programmi, quindi bisogna completamente eliminare questo tipo di percezione per questi programmi. Se qualcuno ce l'ha, ahimè è sbagliata. Cioè se ci si approccia a questi programmi con l'idea di fare, di guadagnare o di mantenere anche una sola risorsa umana è impossibile. Cioè forse se lei ne lo sa meglio di me, quando vedete i budget di questo tipo di progetti, considerato che un'associazione è composta minimo da due persone almeno legalmente è impossibile anche mantenere la metà, è impossibile. Quindi già con questo tipo di approccio andrebbe completamente messo da parte. Quindi a che cosa serve effettivamente il programma di Giovento in Azione, lo svele, le diverse azioni che prevede? Serve soltanto a dare valore aggiunto a quello che noi vogliamo realizzare. Quello che noi vogliamo realizzare è che noi sediamoci, facciamo un'associazione e cerchiamo di tirare su qualche soldo. Cioè nel senso non è questo l'approccio giusto perché per fare soldi magari ce li andiamo in Norvegia, andiamo a lavorare lì per il strato del petrolio e i soldi ce li facciamo male. Sicuramente nessuno ce la fa fare a stare dietro a cartacce, a persone, viaggi, cose per guadagnare 100 euro non vale proprio la pena. Quindi lo strumento è pensato proprio ad hoc per non far guadagnare le persone perché non sono questi gli strumenti in cui si guadagna. Un'altra cosa, per quanto riguarda le organizzazioni, che noi molto spesso siamo orientati a pensarle come vere e proprie imprese, nel senso studiamo le nostre associazioni come se fossero dei piccoli meccanismi aziendali. In parte è vero, in realtà le nostre associazioni non producono alcun bene. Di conseguenza tutti i beni che producono sono beni immateriali, valoriali, culturali, non hanno alcun prezzo. Di conseguenza dobbiamo ridimensionare anche quali sono le mission delle nostre organizzazioni che non sono assolutamente obiettivi di produttività, di produzione, di prezzo, di concorrenza, sono obiettivi valoriali di carattere sociale e culturale. Quindi circoscriviamo effettivamente le nostre ambizioni, solo soltanto queste. Di conseguenza, essendo che noi qua tutti, penso, del terzo settore, diciamo, sono orientati oppure producono beni di carattere immateriale, quello che questo strumento mette a disposizione sono dei valori aggiunti che noi con la nostra rutinaria e quotidiana attività vogliamo apportare nel nostro normale, nel nostro normale quotidianità. Cioè, nel senso, è questo, è un supporto alla nostra attività, non è un supporto economico, è un supporto esclusivamente valoriale. Quindi nel momento in cui noi andiamo a pensare a metterci su un formulario, la prima cosa che ci dobbiamo pensare al diario partner, giustamente, è che cosa ci piacerebbe fare, prima di tutto, e perché? Cioè, nel senso, io con questo strumento, che vantaggio ho rispetto alla situazione in cui mi trovo senza questo strumento? Cioè, bisogna pensare in questi termini, perché molto spesso ci si approccia ai progetti, ai formulari, tantissimi formulari, tantissime richieste, vengono fatte, Morizio, facciamo lo progetto. No, io non faccio il progetto, io devo capire prima che cosa mi serve questo progetto, che cosa mi porta in termini sempre di aspetti valoriali, motivazionali e anche di costruzione di una certa, diciamo, identità sociale che io sul territorio voglio mantenere. funziona, è questa la linea, questo io voglio dire, molto spesso nella progettificia, che molto spesso come sono i nostri uffici, ci si dimentica proprio di questa cosa, e questo non va assolutamente bene. Noi dobbiamo pensare a questo tipo di possibilità come uno strumento, come uno strumento per, uno strumento collaterale alla nostra attività quotidiana. Ok, chiuso questo ombrello, che è fondamentale, sembra banale, ma è fondamentale capire questa cosa. Nel momento in cui noi ci approcciamo a qualsiasi formulario, a qualsiasi proposta che ci viene dall'esterno, la prima domanda che ci dobbiamo fare non è, oh mamma mia, il formulario deve essere compilato entro mezzanotte di oggi. La prima domanda è, perché dobbiamo compilare questo formulario? Che cosa ci serve? Ok, possiamo proseguire. Allora, dalla mia personale esperienza, io vi consiglierei innanzitutto di parlare all'interno delle vostre associazioni, definire quale è il vostro programma di sviluppo, non dico dei prossimi cinque anni, ma almeno di due anni di attività, e poi immaginare a pensare come questi strumenti possono andare ad avvantaggiare questa vision, chiamiamola così, questa mission, chiamatela come volete. Però l'esigenza di prendere dalla scatola degli attrezzi, questi attrezzi, parte da questo ragionamento. Questo ragionamento non viene fatto dopo, ma deve essere fatto a monte. Questo in realtà vale un po' per tutta la progettazione. Ovviamente nel momento in cui andiamo a progettare per imprese, che producono bene materiali, gli indicatori sono ben diversi, però l'approccio è simile, è molto simile. Certo, l'impresa è orientata a profitto, noi non siamo orientati a profitto, almeno per quelli che prendono effettivamente confidenza in questo tipo di strumenti. Andando oltre, forse sì, è il caso magari di illustrare. Allora, parto dalla mia esperienza personale, perché parto dalla mia esperienza personale. Io cinquanti anni fa ho fatto un servizio fronteo europeo in Lituania, sono stato lì per un anno, ho continuato comunque a stare là per un po' di tempo, poi sono tornato qua in Italia, sono entrato in contatto, sono entrato nella mia sending organization originaria, che è la cooperativa Arcobaleno di Lecce, e sono entrato in un momento in cui effettivamente il settore politica giovanili, che loro avevano lanciato quando ancora qua non faceva neanche parte di un asset istituzionale, la parola politica giovanili. Adesso va di moda, dieci anni fa, le politiche giovanili non rientravano neanche nel vocabolario istituzionale. C'era un settore politica giovanili, ma non aveva affinato determinati strumenti potenziali che questo tipo di programmi davano. Nel senso che Arcobaleno ha sempre fatto attività con politiche giovanili molto legate al locale, ha fatto sempre educazione non formale, è stata forse una delle prime a Lecce a importare questo tipo di approccio dall'estero, però al momento non riusciva a convogliare delle energie all'interno per poter effettivamente migliorare la propria identità anche all'esterno. E che cosa mi è stato chiesto? Mi è stato chiesto un attimo di migliorare questo aspetto della cooperativa. Migliorarlo poi alla fine, diciamo, sono diventato l'unico referente della cooperativa, perché nel senso magari ognuno poi ha preso state diverse e io invece mi sono concentrato, grazie anche la possibilità del programma Volenti Spiriti regionale, ho avuto la possibilità comunque di mettere un attimo, non dico due piedi, ma mezzo piede comunque a Lecce. Di conseguenza effettivamente io mi sono seduto da solo, ho iniziato a pensare quale strumento fosse più adatto per sia che andasse incontro alle esigenze di Arcobaleno, sia che andasse incontro alle esigenze del programma Volenti Spiriti, del quale sono coordinatore dei centri di Melendugno e di Vernole. Quindi noi abbiamo, oltre a parte l'area, diciamo, riabilitativa del settore droga e alcol, Arcobaleno, anche un settore culturale, quelli che giovanili, di cui sono io il coordinatore e che gestisce il centro culturale di Melendugno e il centro culturale di Vernole. Qualcuno di voi l'avrà visto sicuramente. Allora mi sono seduto e mi sono detto effettivamente che cosa può servire a questo tipo di centri, a questo tipo di impresa. E quello che ho fatto effettivamente è fare un piano di tre anni. E fare un piano di tre anni, come dire, separato per quanto riguarda effettivamente delle parole chiave che io avevo intenzione di sviluppare, in base alla priorità datemi dai centri culturali aperti da poco, quelli di Melendugno e di Vernole, in accordo con questo tipo di prerogative ho costruito la mia progettazione. La mia progettazione esclusivamente personale è partita da determinati presupposti e così sono andato a sviluppare questo progetto. I progetti effettivamente sono divisi in tre parti. Questo è un progetto di Sve, dopo magari se voi avete domande tecniche sullo Sve, magari poi le affrontiamo dopo. Io adesso vi sto facendo un discorso preliminare su come è partita la progettazione per un'azione 2, a differenza di uno scambio, a differenza di altro tipo di strumenti. Il primo progetto ha visto coinvolti questi paesi, Inghilterra, Austria, Lituania, Bulgaria. Che cosa si voleva fare con questo progetto nello specifico? questo progetto aveva come parole chiave, se lo vedete voi, l'inclusione. L'inclusione. Questo progetto ha ospitato la ragazza che ha fatto questa foto, una ragazza in carrozzina per 12 mesi, lituana, a Melendugno. Forse unico progetto europeo di questo tipo di accoglienza. E quindi una ragazza in carrozzina che ha vissuto 12 mesi a Melendugno, ha fatto attività nel centro di Melendugno, è stata in contatto con la comunità di Melendugno e immaginate voi vedere una ragazza in carrozzina, lituana, in un paese di 8.000 abitanti, dove magari i ragazzi disabili, ahimè, vivono molto spesso all'interno delle case, è stato un grande impatto. Non lo so adesso quanto sia cambiata la mentalità dei melendugnesi o dei familiari dei disabili in merito a questo, ma sicuramente questa cosa qua ha creato un grandissimo impatto. Un grandissimo impatto che come risultato più pratico ha avuto le persone che non parcheggiavano più davanti allo scivolo del centro, pur considerando un'area di loro pertinenza, da quando c'è stata Irma loro non hanno più parcheggiato lì e questo è un indicatore di successo valoriale, voglio dire, quello di cui parlavamo prima. In più questi ragazzi effettivamente hanno aperto il contesto internazionale melendugnese. Cioè non ci fosse già la prima il contesto internazionale a melendugno, magari c'era, ma non è effettivamente, come dire, non era così costruito, quindi mettere per 11 mesi, io sviluppo progetti di lungo termine, non di breve termine, per 11 mesi messi a melendugno con queste caratteristiche effettivamente dato i suoi risultati. Il ragazzo austriaco non aveva finito il ciclo di studi, quindi è un ragazzo coinvolto con minori opportunità vere. Il ragazzo inglese invece è un ragazzo abbastanza attivo nel settore dell'NGO, nel settore mondiale dell'NGO, perché ha avuto esperienze in Nigeria, in India, in diverse parti, nonché praticante di meditazione tailandese, possiamo chiamarla così. Tramite questo tipo di spiraglio lui è entrato a far parte di un NGO che si occupa, si chiama Peace Revolution e attualmente cerca di entrare in Europa con questo tipo di approccio alla vita. La ragazza bulgara è una ragazza hippie, abbastanza originale, abbastanza colorata e frizzante, diciamo un clown in tutto e per tutto. I bambini, nel senso lì si portava a spazio i bambini al seguito per tutta melendugno, molto spesso andava a fare anche babysitting, diciamo così in maniera molto informale, a casa di alcune persone vicino al centro. Quindi queste persone sono entrate in casa dei melendugnesi, non sono state ghettizzate nelle loro case, la loro casa è stata sempre aperta, ha ospitato un sacco di gente, mezzo mondo è passato da melendugno dopo l'arrivo di questi volontari. Dopo vedremo poi magari che prodotto ha fatto questa ragazza, più nello specchio la ragazza lituana. Secondo progetto che sta finendo, che è finito il 31 ottobre di quest'anno, Salento Green Orange. È un progetto che ha visto coinvolto una ragazza francese, una ragazza spagnola, una ragazza lituana. Allora, parola chiave di questo tipo di progetto, partecipazione. Partecipazione perché la gente aveva già preso confidenza con che cos'era il settore internazionale dei centri culturali di melendugno, una volta preso confidenza con questo strumento, la gente si aspetta automaticamente che arrivino altre persone. Di conseguenza il secondo step dopo l'inclusione, questo per le mie fantasie notturne, poteva essere la partecipazione. Quindi come parola chiave di questo progetto è stata la partecipazione. I volontari hanno partecipato all'attività delle più svariate, delle più svariate, non sono state inserite nell'attività del centro. Hanno fatto attività con una scompagnia tatrale per disabili, hanno fatto attività tatrale in una scuola, hanno fatto altre attività con cui singolarmente, con associazioni del posto, singolarmente hanno preso accordi e hanno lavorato singolarmente con alcune associazioni del posto. Un bel progetto, loro sono state molto contente e una crescita diciamo inaspettata, ma inaspettata no, voglio dire una crescita veramente che ci dà degli ottimi risultati, il cambiamento di approccio alla vita da parte della ragazza spagnola. Ragazza, non è una critica la mia, è un'osservazione. Ragazza abituata a dormire nelle stanze proprie, casa bella pulita, la mamma fa da pranzo, fa da cena, la nonna presente in casa, lei perfettina, diciamo non figlia unica ma comunque come se lo fosse, trattata, illustrata da mattina alla sera, a Melendunio si è trovata in una situazione effettivamente completamente opposta. Il primo mese è stato conflittuale al massimo, fatto di lacrime e di come dire, delle aspettative deluse secondo lei, perché si aspettava la sua bella cameretta con i fiorellini e tutti, con le lenzuole abbinate, in realtà questo non è stato, alla fine del progetto il cambiamento di questa ragazza è stato visibile, lei continua ancora a ribadirlo, è veramente cambiata, in un anno di esperienza qui è veramente cambiata moltissimo. Per quanto riguarda la ragazza lituana, probabilmente tornerà a studiare in Italia, per quanto riguarda invece la ragazza francese, diciamo che questo progetto è stato l'avamposto per fare dei progetti di carattere intercontinentale, quindi adesso lei sta cercando di inserirsi in programmi di carattere intercontinentale e vorrei fare qualcosa in Africa. Successivamente, questo è l'ultimo progetto, l'ultimo, nel senso l'ultimo di questi qui, che vede ospiti effettivamente i volontari che abbiamo prima presentato, Scozia, Albania, Polonia, Armenia, con questo progetto la parola chiave è stata creatività. Come vedete la selezione è stata fatta su persone molto giovani, non è un caso questo, che le persone selezionate siano tutte molto giovani, alcuni loro hanno finito la scuola quest'anno, Brodi nello specifico. Questo perché? Perché comunque far venire qui persone già laureate di 25-26 anni, le aspettative sono completamente diverse. Le persone di 25-26 anni qui hanno un approccio allo SVE come un approccio tra virgolette professionale, un tirocinio, possiamo chiamarlo così. In realtà per la creatività il tirocinio tecnico non serve proprio a niente, cioè a me serve il fatto che le persone vengono qua e esplodano, in questo progetto parlo, esplodano le loro idee all'interno dei centri. Questo ho voluto dare una panoramica generale nel senso di che cosa mi ha portato a fare questo tipo di progettazione. Il ragazzo scozzese è un ragazzo musicista dislessico, quindi avrà una formazione ad hoc per lui per quanto riguarda l'apprendimento della lingua italiana. Per quanto riguarda bene o male le altre ragazze sono tutte molto giovani, tutte molto frizzanti, tutte molto sorridenti. Alla domanda perché mi avete scelto come volontà europea, la risposta mia è stata perché avete fatto foto, nel curriculum c'erano foto sorridenti. Nel senso sono cose magari abbastanza stupide, piccole, banali, ma in realtà hanno un senso se magari dietro c'è un ragionamento di questo tipo, che magari non è impeccabile, anzi ha avuto diverse falle ovviamente, però nel senso i risultati si possono vedere. I risultati sono quotidiani comunque. Questo non toglie che i problemi anche sono quotidiani. Trattandosi di persone che stanno qui per un anno, vi potete immaginare voi quanti episodi possono susseguirsi in un anno. Parlo di raffreddori, parlo di influenze, parlo di abbassamento del morale, parlo di diverse cose che in un anno possono subentrare. Un'altra cosa, la progettazione, almeno dal mio punto di vista, deve essere sempre fatta su lungo termine. Io mi sono occupato anche di scambi all'inizio del mio approccio quando sono stato calato in questo tipo di contesto, a me abbastanza pulso. Ho iniziato a fare scambi e gli scambi li ho lasciati da parte perché non ho la possibilità di registrare i risultati di uno scambio. Questo perché? Perché io non gestisco gruppi, voglio dire, non ho il gruppo di amici o il gruppo di ragazzi del paese, per esempio come Giugianello, che seguono effettivamente, vedono loro come un faro, un indirizzo effettivamente per poter essere coinvolti, per uscire un attimo dal paese, per farsi un giro fuori. Hanno delle motivazioni completamente diverse dalle mie. Le motivazioni mie sono quelle che rientrano nell'internalizzazione culturale dei centri culturali in Italia, a Melendugno nello specifico. Non è un caso che a fine mese andrò a Marsiglia dove c'è il meeting internazionale dei centri indipendenti di tutta Europa. Cioè, come dire, gli obiettivi sono diversi. Quindi se noi non tariamo le nostre iniziative sugli obiettivi, rischiamo di fare un lavoro perso e anche inutile, perché non riusciamo a dare risultati che effettivamente noi ci prefiggiamo di avere. Ecco perché io vi consiglio di tarare la vostra macchina su quello che effettivamente voi volete fare. Perché io non posso andare a 100 all'ora con un motorino, né tantomeno posso andare, voglio dire, né tantomeno posso avere una Ferrari e portarla a 50. È la stessa cosa. Quindi vorrei farvi riflettere io su questo. Perché questa cosa poi è fondamentale sia per cercare di avere meno problemi dopo, ma è fondamentale anche per avere una condivisione di quelle che sono le strategie di un gruppo, di un'associazione, di un'impresa, di un po' di tutto, insomma. Di quello di cui voi tutti quanti fate parte. Vabbè, in ogni caso questi sono i miei contatti. Se qualcuno di voi non mi conosce può comunque contattarmi qui. Vi mostro un attimo, intanto per avere un'idea. Ok. Questa è la ragazza. Mostro questi ragazzi perché l'ultimo progetto che è finito ancora non ha prodotto dei prodotti di comunicazione. Scusate la ripetizione. Quindi questo è l'unico progetto al momento che è stato concluso con tutti i prodotti di comunicazione, Rebo, tutta la pappardella che effettivamente l'Europa ci chiede. Le Irma è grafica, impaginatrice di un giornale locale di una città di Lituana, dove io ho fatto lo SVE. Quindi una lavoratrice, trentenne. Quindi ha lasciato il lavoro e è venuta a fare esperienza di SVE. Essendo a trent'anni lo scadere della possibilità di farlo, ha deciso di lasciare il lavoro e di venire qua. Questa è lei. Queste sono le esperienze fatte da lei durante lo SVE. Fatte da lei e dagli altri. Ve lo mostro rapidamente soltanto per... all'interno della biblioteca. Questo è il arcobaleno, la comunità. Questa è l'inaugurazione del centro di Vernole. Questo è il Bollenti Spiriti Bar Camp all'ECNOS, luglio 2012. Attività con ragazzi disabili all'interno del centro di Merendugno. Meditazione tailandese e attività con bambini sempre nel centro di Merendugno. svago generale, compleanni, feste e drink, carnevali, carnevali, matrimonio del sindaco, non so perché. Polizie, ammiragli al lato. Ah no, no, lei è stata invitata al matrimonio del sindaco, è vero? Sì, è stata invitata. Quindi questo giusto per dare una carrellata visiva, notte della Taranta. Assolutamente no, notte della Taranta l'ho anche persa io veramente, l'ho persa io, notte della Taranta. Partecipazione politica, no tap, comitato no tap. Tanto per farvi un altro esempio, a Sant'Andrea, voi immaginate Sant'Andrea quando è ad agosto. Babilonia. Babilonia esattamente. Non si può arrivare in macchina a voler entrare in Babilonia ad agosto, ti aiutano prima per poter entrare nei parcheggi e Irma entrava nel Babilonia con la macchina. Cioè, per farvi un esempio. Il vigile appena vedeva Irma, apriva tutto e tutti e faceva passare macchine, faceva passare tutto. Quindi questo è quello che intendo dire io quando utilizziamo questi strumenti come effettivamente dei valori aggiunti di carattere valoriale, sociale e culturale alla nostra mission, alla nostra vision. Ovviamente io non ci guadagno soldi se entro al Babilonia in quel modo, non ci guadagno assolutamente nulla. Ci guadagna qualcun altro al posto mio e forse qualcun altro vede effettivamente come una persona in carrozzina può venire tranquillamente in Italia e vivere 12 mesi nella maniera più splendida possibile. Con questo non voglio autocelebrare la mia attività, no. Voglio soltanto far capire lo strumento che Giuventi Unazione mette a disposizione per queste persone. Oppure come possono essere effettivamente studiati questi strumenti per queste persone. È quello che mi interessa a me che venga fuori da questo incontro. Perché si capisca che Giuventi Unazione sono strumenti di valore aggiunto di carattere sociale, culturale e valoriale della nostra organizzazione. Dal punto di vista propagandistico avrei pure chiuso. Non so se voi avete delle domande in particolare. Un'altra cosa ovviamente nel progetto scritto Irma ha usufruito di un rinforzo, di un mentoring rinforzato. Quindi diciamo una risorsa economica messa a disposizione per lei in qualsiasi momento. Disposizione economica minima, sempre. Parliamo di cose minime. Effettivamente forse di questo supporto possiamo dire in via di massima che non c'è stato alcun bisogno. Nel senso che i suoi veramente accompagnatori e assistenti sono stati volontari stessi. I volontari stessi, la comunità di Menendugno e tutti quanti insomma che con loro hanno interagito. Ma stiamo parlando di grandi numeri comunque. Cioè nel senso se 8.000 persone vivono in Menendugno loro hanno dovuto a che fare con più persone. Di questo ne sono sicurissimo. Non lo so. Vuole intervenire Orieta? Orieta? Prodi? Prodi? No? Cosa? Ok, grazie. Se avete qualche domanda sono qua di aspetti tecnici ovviamente. Adesso abbiamo parlato diciamo di aspetti un po' più di contesto e anche di progettazione. Poi se vogliamo andare negli aspetti tecnici c'è una guida sul sito. Voglio fare una domanda. Per quanto riguarda la nuova programmazione, sei a conoscenza se questa possibilità sarà ripresentata in qualche maniera oppure in qualche un'altra? Se non sbaglio, a meno dalle anticipazioni che ho avuto io, hanno già sviluppato le key action. Nelle key action la prima è la mobility e la mobility manterrà il servizio di volontà europeo forse abbassando il limite d'età. Nel senso forse inizieranno ad essere forse dai 14 anni in su. o 16 anni per la partecipazione, ma quello è minimo. Però ti dico una festeria, cioè ci potete dire una festeria che sono indiscrezioni, però la mobilità è rimasta e il servizio di volontà europeo è una delle misure che rimarrà quasi intatta. Qualche altra domanda? Maurizio, se vuoi parlare per esempio dell'accreditamento che è necessario, magari per le associazioni che non conoscono, che magari vogliono accreditarsi rispetto al servizio di volontà europeo. Ecco qua, pure per l'accreditamento, vale sempre la solita premessa. Per l'accreditamento bisogna, per non perdere tempo ragazzi ve lo dico, bisogna avere degli assetti abbastanza rutinari e quotidiani della propria attività. Intendo dire che bisogna come minimo avere un centro in cui ci si riunisce, come minimo avere un centro che ha un orario di apertura e di chiusura, come minimo avere un personale addetto che là dentro ci lavori. Questi sono dei requisiti minimi per poter compilare voi una manifestazione di interesse. Una manifestazione di interesse che l'Agenzia Nazionale dei Giovani valuta, valuta molto bene, non valuta in maniera leggera, ti chiamano, possono anche chiamarti a Roma, come è successo nel mio caso, per effettivamente valutare e vedere quali sono gli assetti dell'organizzazione per garantire al massimo la tranquillità e le attività del volontario. Tenete sempre presente che gli interessi primari per l'Agenzia Nazionale dei Giovani non sono i nostri ma sono quelli dei volontari. Quindi noi quanto più salvaguardiamo le attività, la sicurezza, l'integrità e tutto quanto del volontario, tanto più il nostro progetto avrà un buon successo. Per quanto riguarda l'accreditamento, l'accreditamento una volta approvato dura tre anni, in seguito all'accreditamento loro ti danno un codice internazionale e accedi al database, sempre con quel codice, per cui sei registrato in quel database, qualsiasi persona del mondo può vedere che progetti attivi hai e quali non hai. La funzionalità del database è abbastanza critica, hanno detto che l'avrebbero migliorata, perché nel database non è possibile vedere se i progetti sono attivi o sono chiusi. Non è un database, non so come dire, temi tecnici, ingegneristici, è abbastanza statico, non è un database dinamico, non è per niente versatile, ma sicuramente lo miglioreranno. L'accreditamento quindi dà diritto a poter partecipare alle azioni, a poter fare application form per tre anni, ospitare soggetti, ospitare volontari, ti può accreditare su tre livelli, o meglio due, poi diventa il terzo di automatico, che è quello del sending, cioè io invio volontari e per quello non è richiesto avere una struttura regolare con attività rutinaria. Il secondo passaggio, che è ben più serio, è quello dell'hosting e coordinating, che è quello che effettivamente ti permette di ospitare, di coordinare progetti di SVE. L'accreditamento è un'application form un po' più complessa, un po' più dettagliata. Però quanto si scrive in inglese, quanto più precisi sia nell'application, nell'amministrazione di interesse, tanto più successo per essere comunque effettivamente approvato si ha. Che cos'altro ricordare riguardo l'amministrazione di interesse, nello specifico, niente di particolare comunque, non viene inglese niente di che. L'amministrazione di interesse serve a loro per capire la struttura dell'associazione, cioè quello che deve venire fuori, deve essere chiaro all'interno di un'amministrazione di interesse, è capire la struttura e le attività che l'associazione svolge. Non vuole sapere come ti chiami, chi sei, quante bellissime attività fai, no. Allora interessa sapere l'assetto dell'organizzazione. Quindi quello che loro devono avere chiaro in un'amministrazione di interesse è sapere che se loro vengono alle 11 di mattina, e lì c'è scritto alle 11 di mattina il centro lavora, allora devono trovare il centro che lavora con il volontario all'interno che rivolge attività. Intendo dire questo. Non all'italiana, ma all'europea maniera. Nel senso che possono venire effettivamente a vedere, io ho avuto due visite di monitoraggio, sono stato anche chiamato a Roma perché? Perché nel centro di riabilitazione per tossicodipendenti e alcolisti l'Agenzia Nazionale aveva il dubbio che noi usassimo, se posso usare questa parola sgarbata, i volontari come operatori di comunità. Questo ovviamente non è possibile. I volontari non sono dei lavoratori ma sono degli ausiliari del tuo lavoro rutinario. Quindi loro vogliono avere la certezza che i volontari non facessero le veci di operatori. Non so se voi conoscete l'ambito di comunità, è un ambito abbastanza chiuso, sia per quanto riguarda le competenze che bisogna avere, sia per quanto riguarda anche l'ambiente, la sicurezza dell'ambiente interno. Ovviamente noi abbiamo scongiurato questo tipo di eventualità e ovviamente il progetto non è stato svolto per niente, come se loro fossero operatori. Loro hanno fatto le attività che facevano i ragazzi all'interno della comunità, hanno cucinato con loro, coltivato i campi, pulito gli animali, hanno fatto tutte queste attività che i ragazzi svolgono. Non dal punto di vista terapeutico ma dal punto di vista del supporto quotidiano, semplicemente. Abbiamo avuto anche una vista di monitoraggio per quanto riguarda sempre il primo progetto. È andata bene, nel senso che abbiamo avuto una buona valutazione. E basta. Non so se avete altro da chiedermi. Tutte le informazioni tecniche, ragazzi, comunque sulla guida sono disponibili. Io non la so a memoria, però. Io vorrei chiederti qual è l'iter da seguire per un volontario che volesse partire all'estero per il servizio civile europeo? C'è il servizio volontario europeo? Sì, sì, ho capito. Non c'è un iter da seguire, c'è un iter amministrativo standard che è quello, diciamo, burocratico, che vede il coinvolgimento di una sending organization, di una coordinating e di una hosting organization. Questi sono i tre attori fondamentali e amministrativi. Come avviene effettivamente la selezione, il processo? Allora, le strade sono due. O il volontario, per fatti suoi, si trova un progetto di hosting, una volta che se lo trova ha buoni contatti con l'hosting organization via mail, contatti con una sending organization nel proprio paese e in questo modo effettivamente ha più sicurezza di partire. Questa è una via, che è quella più rapida. Una via un po' più complessa è quella che tu comunque, tu non volontario, ma organizzazione, decidi di dare un partenariato di sending a prescindere, al momento non hai il volontario da mandare, ma mandi comunque un'adesione di partenariato e poi tu in qualità di sending organization ti attivi per reclutare persone da mandare da quel progetto per cui tu già hai dato un partenariato. Mi spiego, per cui quindi tu, è come se offrissi un pacchetto già al volontario che viene a chiederti, posso partire? Il pacchetto che c'ho è questo. Il pacchetto che c'è è quest'altro. C'è questo, quindi o ti disponi tu di strumenti da poter offrire a chiunque venga per poter dire, guarda, ho già un partenariato inattivo su questo progetto, ti interessa? No. Se effettivamente il progetto, insomma, se magari uno ha già più freschezza mentale, più vivacità e ha già l'abilità di poter contattare un hosting organization che sta scrivendo un progetto di hosting, in quel caso è più comodo, è più facile. È più facile. È inutile dire che comunque molte organizzazioni scrivono i progetti per i volontari che già sanno che devono arrivare, quali sono i volontari. Nel caso, per esempio, di Orieta, il progetto suo non è stato scritto per lei, è stato scritto per un altro ragazzo che poi è partito per un altro progetto in Polonia. E io ero in contatto con quell'altro ragazzo, non ero in contatto con lei. Diciamo, Orieta è uscita negli ultimi due mesi di selezione, dopo che questo ragazzo mi aveva detto che era partito in Polonia. Ovviamente per me è molto più facile e molto più comodo costruire già in sei mesi la collaborazione con il gruppo volontario che non negli ultimi due mesi, no? Di scambio di mail, questo tipo. Per esempio con Brodi è da quest'estate che ci scambiamo mail noi, con tutti loro. Soltanto nel caso di Orieta è successo questo, ma questo succede. Nel primo progetto mio, Salento Blu Orange, i volontari previsti erano sei. Alla fine ne sono arrivati quattro. Questo è anche una cosa da tenere presente, ragazzi, perché nel momento in cui io mi attivo per ospitare delle persone, quattro persone facciamo finta in una casa, e facciamo finta che questa casa ha un costo di 500 euro, sto dicendoci fra caso, se me ne arrivano due, il budget si riuscita a due persone, non a quattro. Io la casa la devo pagare lo stesso, 500 euro. Quindi questi conti vanno fatti bene, prima, perché poi, nel senso, le cose, le rogne le devi sbrigare. E poi vai a trovare un'altra casa, vai a fare un altro contratto. Cioè, una volta che tu hai trovato già una casa e che secondo te è una piattaforma buona per far partire un progetto, non è detto che su quattro vengano tutti. Perché uno magari all'ultimo momento ha un problema universitario e non può venire. Uno più non è interessato al progetto, ha trovato un lavoro e non viene più. E tu in una settimana non riesci sicuramente a trovare un sostituto in maniera rapida. Questo intendo dire, no? Soprattutto poi non riesci a fare una buona selezione, soprattutto. Perché non sai chi ti arriva. Ti arriva una scatola vuota, tu non l'hai conosciuto, non sai chi è, non sai che tipo di competenze o skills ha, ti mette un po' in difficoltà questa cosa. Ti mette un po' in difficoltà. Magari nel caso di Orieta, cioè io, bene o male, ho capito l'esperienza che c'aveva Orieta nel settore anche della progettazione, delle attività giovanili e tutto questo tipo di settore, che a me andava bene. Ma magari Orieta fosse una biologa marina, cioè non lo so, una ragazza che si occupa di ingegneria nucleare, cioè che viene in un centro a Merendugno, lavorare con i bambini, non so quanto effettivamente lei possa dare a livello proprio di sentimenti, di predisposizioni, di tutto. Perché poi ovviamente il target, i bambini, lo registrano subito se tu sei tagliata per quel tipo di lavoro o meno. La soddisfazione si vede subito, non è il livello di soddisfazione, diciamo. Non è una cosa, ma mi viene una persona a caso, poi tanto quello deve fare. No, non va bene così. Un minimo di selezione a monte va sempre fatta, un minimo. Ho fatto una selezione abbastanza particolare, veramente, proprio per non avere sorprese. Molto spesso ti arrivano curriculum completamente fasulli, cioè l'italiana, voglio dire, Turchi, Spagna, cioè ti arrivano all'italiana, cioè come noi siamo italiani, noi ci inventiamo i curriculum perché non sono documenti ufficiali come negli altri stati, no? Noi facciamo così. Negli altri stati se tu mi scrivi una fesseria sul curriculum sei anche passibile civilmente di qualcosa. In Italia la gente si inventa di tutto. Invece di mandarti due pagine di curriculum, te ne manda sette, ti mette anche chi ha fatto il corso, non lo so, per pulire le scarpe, ti mette anche il corso che ha fatto, non so, per montare i termoconvettori, ma non mi frega niente a me. Cioè se tu mi stai mandando una candidatura per un progetto di servizio volontario europeo, tu devi mandarmi il curriculum tagliato per quel tipo di attività. E molto spesso le persone si inventano di tutto, pur di essere selezionate. Ovviamente stiamo parlando anche di paesi magari che hanno più desiderio di venire in Italia, ma non è detto neanche questo. Anche in Spagna, anche per gli spagnoli, mi è capitato di avere, per esempio questa ragazza spagnola, secondo me un buon 50% del curriculum era inventato. Ma lei me l'ha messo anche, voglio dire. Ma non è una colpa sua, anche noi siamo fatti così un po'. Un po' sì, un po' sì. Io la riscontro questa cosa rispetto ai curriculum che arrivano dall'estero, non quelli turchi, perché quelli turchi pure sono abbastanza da curiosi come curriculum, o quelli spagnoli. Quelli italiani un po', io ho riscontrato questa cosa, magari mi sbaglio, ovviamente. Poi dipende anche dal livello di serietà che ognuno ha. Fondamentale, voglio dire, soprattutto. Però, almeno dalla mia esperienza, io posso dire questo. Infatti, voglio dire, la prima cosa di cui io mi fido personalmente è la faccia. Non c'hai altro. Se la faccia corrisponde a quello che c'è scritto sotto, anche che siano due righe, io mi fido, va bene. Poi ovviamente con loro ho iniziato un'intervista Skype prima della partenza, c'è stato tutto, un meccanismo comunque di selezione, di informazione, tutto questo tipo di cose che non sono secondarie, ecco, allo sviluppo di un buon progetto, assolutamente. Dimmi. Per quanto riguarda gli ambiti, sono sempre in ambito sociale o possono spaziare anche in altri ambiti? No, il problema, il fatto reale è che non debbono produrre profitto. Quindi, come dire, il settore che non produce profitto è il terzo settore, in cui si scrive un'attività di carattere sociale, culturale, di mediazione interculturale, cioè questo è il settore. Se parliamo di manufatturiero, non possiamo sicuramente utilizzare questo strumento. Quindi parliamo di terzo settore in generale. Tutto. Parlo di terzo settore, facciamo finta, in Spagna c'è stato un progetto di un paese disabitato, è stato fatto un progetto, non so con quanti sve, per tre mesi, per ristrutturare tutto il paese. La finalità di quella ristrutturazione era dare un alloggio a determinate persone che abitavano là vicino. Quindi, come vedi, nel senso, voi si andate a fare effettivamente i manovali in Spagna, ma la finalità era di carattere sociale e urbanistico. Per esempio. Giusto un esempio, ecco, per cambiare settore. Settore edile. Questo è il settore edile. Però mi è capitato di notare alcune attività economiche di produzione. che so, un esempio, agricoltura biologica. Alcuni volontari in un'organizzazione in cui io ho lavorato si occupavano del mercatino, dei prodotti biologici, con un produttore locale. Quindi, alcune attività, credo, siano fattibili, implementabili. Non lo so. Questo è una... Posso rispondere su questo? Il progetto è stato scritto... Quello è un progetto di farming, nel senso... Di farming. È un progetto di cultura, di coltura, scusa, di coltivazione. Quindi che riguarda la sfera dell'imparare come si zappa la terra, non dell'imparare a vendere. L'impiego, poi, dei volontari per la vendita è un aspetto interno loro, che si gestiscono così i volontari. I volontari, in teoria, non sono per niente destinati a quello. Può succedere questo. Può succedere, per esempio, se io faccio un festival, no? Ipotizziamo. Io non sono un SPA. Sono un NGO che vuole fare un festival. Molte NGO li realizzano. Non c'è bisogno di avere margini di profitto. Un'associazione, qualsiasi associazione, vuole organizzare un festival. Io devo fare attività di sbigliettamento. E in quel caso, molti degli SVE, soprattutto nei contesti di carattere internazionale, molti SVE sono utilizzati. Città della cultura, capitale della cultura 2014, molti che faranno sportello, informazione, molti saranno SVE. Per esempio. In quel caso tu non stai vendendo niente, per esempio. Però comunque, capitale della cultura, servizio pubblico di informazione, invece di mettere l'indipendente comunale, che magari non sta a parlare inglese, ci metti lo SVE. Nel caso, effettivamente, di quel caso dicevi tu, si tratta di attività legate al mondo rurale, e non legate alla commercializzazione e al marketing di brand, di culture biologiche, che è un'altra cosa. Un po' l'utilizzo è diverso, no? Cioè, questo intendo dire io. Io voglio dire pure, ho all'interno del centro di Melondugno un bar, no? Cioè, ma non dobbiamo immaginare un bar come quello che ci sono qua, nei bar. È un bar interno al centro. Nessuno approfitto da quel tipo di entrata. I soldi che ci sono, che magari, quei 40 centesimi al giorno che entrano, sono reinvestite. Cioè, non... Mi spiego? Poi, il bar funziona che è per uso interno. Quindi, in teoria, soltanto chi ha la tessera può accedere ai servizi del bar. Quindi, è un discorso... Sì, è un discorso un po' diverso, nel mio caso. Quindi, io potrei tranquillamente impiegare l'oro, magari, per stare una sera, durante un evento, dietro al bancone, a servire le bevande. In quel caso, io non vedo l'attività, diciamo, di profit, no? Almeno, io non la vedo. Magari tu, da esterno, che vieni, diciamo, guarda questo, sta mettendo la cammelliera a SVE, a vendere le birre. In realtà, non è così. In realtà, comunque, il discorso è legato al centro, agli abbonati, diciamo, al centro, e loro fanno attività che profigua per il centro, non in termini economici, ma in termini di gestione organizzativa, diciamo. Beh, per socializzare, sicuramente, no? In questo caso, io non vedo un, diciamo, un trattamento. Sì, 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 chiaro. No, giusto per fare le differenze. No, io dico questo perché una cosa è quella che si scrive, che vuol rispettare i caratteri formali dell'application form. Una cosa, poi, è l'utilizzo che se ne fa. È questo. Altre domande? Allora, in merito, invece, all'azione 1.2, non parleremo dell'azione 1.2, nel senso, non parleremo dal punto di vista tecnico, perché, non so, Maurizio, se tu lo sai, ma non ci sarà più. Probabile. Quindi abbiamo avuto questa anticipazione che dall'anno prossimo non ci sarà più l'azione 1.2. Non ha più l'azione 1.2, iniziativa locali. Sì, iniziativa locali, quindi, no. Però volevo approfittare di questo momento per parlare invece di un progetto che Mille Piedi sta portando avanti, che ancora non si è concluso, anzi è iniziato da poco, di azione 1.2 locale, quindi iniziativa giovani locali, anche per promuovere, perché è un progetto che innanzitutto è partito, rilasciandomi un po' a quello che diceva anche Maurizio, da l'osservazione della realtà, l'osservazione di una comunità che è quella di Gianello, di un piccolo paese, in cui vedevamo, in cui le persone non sono abituate assolutamente alla diversità, non sono abituate a vedere delle persone straniere, non sono abituate a vedere nelle scuole o se ci sono delle persone straniere sono assolutamente isolate, assolutamente non integrate con il resto della comunità, un po' per colpa di tutte e due le comunità, perché molto spesso anche gli stranieri vengono, pensano a lavorare, perché il primo obiettivo è quello di trovare lavoro, per sostenersi, e quindi insomma si isolano, rimangono chiusi in casa, quindi non ci sono nelle piccole comunità quelli che possono essere degli strumenti per poter, io non voglio parlare di integrazione, ma comunque per socializzare e per creare coesione sociale, no? Quindi è partito prima di tutto da un'osservazione di quella che era la nostra comunità, quindi come diceva Maurizio, qual è il bisogno? Cioè partiamo prima di scrivere un progetto da quella che è una necessità, da un bisogno, e non partiamo dal progetto, scriviamo un progetto, perché che cosa facciamo? Cioè il bando è lo strumento per raggiungere uno scopo, cioè non è l'obiettivo, cioè l'obiettivo è appunto parte da un'esigenza e quindi abbiamo iniziato, abbiamo pensato a questo progetto che è un progetto sull'educazione all'interculturalità ed è un progetto diviso in due parti, la prima parte che coinvolge i bambini dalla terza elementare alla quinta dell'istituto comprensivo di Muro, quindi i bambini che sono di questi insomma nostri piccoli paesi, comunità che vanno a scuola, in cui sono presenti dei bambini stranieri, ma sicuramente sono bambini e si sente anche tra i bambini, forse un po' perché li hanno sentiti dalle famiglie, dai genitori, sono bambini assolutamente isolati dagli altri, dagli italiani, ma sostanzialmente perché non si ha proprio la cultura della diversità, l'abitudine alla diversità, quindi diciamo è un progetto che è iniziato nelle scuole e attraverso attività, abbiamo immaginato come fare a creare le condizioni perché questi bambini si conoscano, partendo da quella che può essere una cosa accessibile a tutti i bambini, cioè raccontare le storie, le favole, raccontare favole sia italiane, sia favole tipiche di altri paesi, quindi le favole senegalesi, le favole albanesi, le favole rumene, cioè attraverso il racconto di queste storie, ovviamente ogni favola, ogni racconto dei propri paesi racconta la cultura di questo paese, è ovvio che una favola, una storia che si racconta in Africa parlerà di animali, parlerà di leoni, parlerà di un approccio alla vita completamente diverso da quello che è l'approccio alla vita in Italia, che ci sono ovviamente circostanze diverse, quindi partendo da questo e lasciando spazio agli stessi bambini di raccontare le storie, quindi mettendo al centro i bambini, che di tutto, che noi appunto facilitiamo come al solito, ma sono i bambini al centro che raccontano dei propri paesi. e questa, diciamo, è la prima parte del progetto e devo dire che sentire bambini interagire, raccontarsi su anche tematiche molto difficili, come per esempio la guerra, bambini di otto anni discutere sul concetto di guerra, che cos'è la guerra per me? O che cos'è l'umiliazione? Ovviamente per noi questa è già una grossa soddisfazione. Il bambino che dice a me la guerra piace, perché voglio diventare un pugile se vado in guerra quando torno sono un pugile bravissimo e poi il bambino che risponde forse dalla guerra non torni più, otto anni. Oppure un bambino albanese che dice a me la guerra non piace perché se tu sei il buono e uccidi il cattivo poi il cattivo uccide i tuoi genitori, hai il diritto di uccidere i tuoi genitori, raccontano una realtà molto diversa e comunque diciamo sono tematiche che uno non si aspetta che un bambino possa conoscere o possa di cui possa discutere semplicemente. Quindi diciamo tutto questo attraverso lo strumento delle storie e strumenti facili accessibili a tutti i bambini si vanno a toccare tematiche molto più grandi e quindi diciamo questa è la prima fase del progetto. La seconda fase invece abbiamo pensato di coinvolgere gli adulti, le comunità di stranieri io lo voglio dire anche perché so che ci sono molte associazioni che lavorano con comunità di stranieri e quindi diciamo nella seconda fase del progetto diciamo le due fasi vanno di pari passo una si realizza nelle scuole l'altra qui a Lecce con comunità di italiani e stranieri diciamo cercando di creare un gruppo molto eterogeneo quindi quanto più comunità di stranieri ci sono meglio cercando di fare la stessa cosa cioè quello che vogliamo fare è permettere a queste comunità semplicemente di conoscersi perché molto spesso la comunità ci sono la comunità di senegalesi sta con la comunità di senegalesi quindi creare le condizioni perché si venga a conoscenza di un'altra cultura semplicemente o permettere oltre a quelli che possono essere le problematiche che possono affrontare insomma gli stranieri che vengono in Italia che possono essere quelli del lavoro in primis cercare il lavoro eccetera ma forse affrontare tutte le problematiche che possono esserci forse è più facile nel momento in cui si incontra gente del posto si fa amicizia con altre persone quindi diciamo questo aspetto stiamo cercando di valorizzare questo aspetto attraverso tre strumenti diversi che sono quello della musica del teatro e della danza quindi adesso noi cerchiamo di creare di formare questo gruppo che attraverso questi strumenti può interagire e può conoscersi questo avverrà a gennaio questi tre laboratori ovviamente gratuiti si realizzeranno qui a Lecce al teatro di Bidessè per un mese intero queste comunità si incontreranno e attraverso lo strumento della musica interagiranno e si conosceranno adesso stiamo facendo un tour di incontri in varie associazioni per cercare di coinvolgere per cercare di spiegare loro che cosa vogliamo fare e qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere devo dire che già da adesso la cosa bellissima è che il progetto parte in un modo no? dall'incontro con queste comunità vere e proprie riunioni noi chiediamo alle associazioni per esempio l'associazione senegalese di San Cesario abbiamo chiesto a San presidente dell'associazione ci fai fare un incontro con i tuoi soci in modo da spiegare il progetto eccetera da questo incontro è nato ma perché non facciamo una festa insieme a dicembre cosa che faremo in cui noi senegalesi magari raccontiamo le nostre storie del Senegal quindi diciamo dall'interazione dall'incontro con queste comunità si sta sviluppando il progetto in maniera diversa un progetto che è partito in un modo e che piano piano si arricchisce anche dall'incontro con le altre associazioni con le altre comunità e che è un po' l'obiettivo poi finale del progetto che abbiamo immaginato quindi a dicembre durante la prima metà di dicembre ci sarà una vera e propria festa in cui si darà spazio ai ragazzi senegalesi ci sarà un concerto che è quello dei Tu Cre che già è una come dire un gruppo composto da italiani e da stranieri Somi del Kenya un altro ragazzo senegalese e poi dei ragazzi italiani e quindi diciamo come dire ieri c'è stato un incontro con un'altra associazione che ha detto a me piace ma perché non facciamo questo perché oltre durante la festa facciamo una mostra fotografica con le foto dell'India quindi pian piano si arricchisce il progetto in questo senso quindi questo vuole essere anche un invito per le vostre associazioni se avete se lavorate con gruppi di stranieri con comunità di stranieri per cercare di coinvolgere ma non solo stranieri ma anche italiani perché poi l'incontro deve essere anche con c'è un incontro anche con con gli italiani quindi diciamo vuole essere un invito anche a partecipare a contribuire in qualche modo detto questo io poi concluderei questa prima fase diciamo già inoltrata prima fase perché volevamo fare avevamo pensato di fare soprattutto per i ragazzi che non hanno mai partecipato che non hanno mai organizzato degli scambi una sorta di workshop provando ad immaginare con Alberto per l'azione 1.1 e con Maurizio per l'azione 2 di fare una sorta di piano di attività divisi in gruppo per cercare di immaginare un progetto con voi insomma che aiutate in questo quindi io chiederei a voi per chi è interessato magari di approfondire anche quella che è l'azione 1.1 e quindi vuole fare un piano provare a fare un piano di attività per l'azione 1.1 può andare da Alberto e invece per chi è più interessato all'azione 1.2 con Maurizio in questo ci possiamo dividere fare due gruppetti se non lo so se sono interessati siete interessati? per chi non è interessato non fa niente chi è interessato invece può io vi lascio e se per alcuni che hanno magari che non hanno interesse ne uno nell'altro e magari vorrebbero fare qualcos'altro in senso magari fare qualcos'altro oppure visto che l'1.2 magari non sarà più nel nuovo programma magari fa qualcos'altro a posto dell'1.2 se siete d'accordo è una mia proposta no non lo so prendiamo un altro perché sui nuovi programmi non ci possiamo azzardare sarebbe oltre che del lavoro perso comunque delle grandi menate io vi posso insegnare il Sir Taki una danza rumena anche una una turca no non saprei seriamente se io so che qualcuno di loro è interessato perché me l'ha detto prima ok allora chi è interessato all'1.1 venga qua esatto ok comunque io ho una cosa che ha dimenticato Selene grazie grazie no una cosa che ha dimenticato Selene se volete seguire se siete interessati a seguire l'attività del prossimo progetto in trecci chiamato potete mettere un like sulla pagina facebook cercando mille piedi associazione così appena verrà pubblicato il calendario i vari appuntamenti un sacco di gente 1.1 sono scambi di giovani mentre l'azione 2 è il servizio volontario europeo chiareta chiara chiara fai tu di scambi uno scambio allora dal vero mi sembra che l'azione è così io facciamo un'altra non ho capito ma era così me lo ricorderò in futuro ma infatti io ho detto ma perché non possiamo fare 1.2 facciamo qualcos'altro no c'è la c'è la c'è la c'è c'è qualcuno interessato all'azione 2 ok perché io allora mi vado a fumare la sigaretta tutta l'azione 2 ma poi si si allora noi quando finiamo praticamente fra massimo 20 minuti non credo servano 20 minuti e poi è finito nel pomeriggio nel pomeriggio si ricomincia alle 3 con Deborah si farà un intervento molto pratico su quelle che sono le competenze il lavoro in gruppo quindi dalle 3 alle 5 quindi si ritorna qui alle 3 va bene si si laboratoridalbasso.it laboratoridalbasso.it e poi ci sono i vari laboratori adivini e scelte io per questo ho detto 1.2 non c'è un no due due forse ho detto 1.2 non lo so ho capito male l'altra non ho capito bene comunque siccome tu non c'eri ieri noi mandiamo tutta la comunicazione dalle mail che ci lasciate e quindi voi vi aggiorniamo insomma si 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 perché per esempio tu non hai il piano didattico ce l'hai? quell'aggiornato? quell'aggiornato cioè a quando ce l'hai? prima nel senso che noi l'abbiamo andato proprio due giorni prima perché fino a due giorni prima c'è stato il 2 il 2 allora ce l'hai aggiornato tu avevi lasciato avevi mandato l'adesione allora ce l'hai ma pensavo che aveste cambiato qualcosa ieri no no abbiamo anche oggi come vedete la lavagna i nostri potenti metti rispetto a ieri che abbiamo dovuto attaccare i fogli con il nostro adesivo ah tu c'eri tu c'eri mi piacerà da Alberto allora sono sicuro buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti